Buongiorno a tutti, benvenuti a questo secondo giorno di festival e a questo secondo giorno di conferenze stampa. Oggi andremo veramente a sprombattuto perché abbiamo tanti appuntamenti e tante conversazioni. Voglio ricordare che siamo in collegamento anche su Zoom per chi non può essere qui con noi, quindi per i giornalisti che ci seguono da casa e quindi vi invitiamo anche da casa a fare domande, a intervenire, esattamente come se foste qui con noi in conferenza stampa. Ricordo anche che qui con me ogni giorno c'è Federico Bernocchi che è il mio collega con cui condividiamo le conferenze stampa e ci alterneremo anche oggi al tavolo perché come sapete per il protocollo Covid non possiamo stare più di un tot di persone qui seduti. Quindi allora entriamo come si dice in Medias Res e cominciamo con il primo film della giornata che è Linghi, Lien Sacré di Mamat Saleh Haroun che è qui con noi, gli diamo il benvenuto, diamo il benvenuto anche alla nostra fondamentale interprete Anna Ribotta. Allora il film è presentato fuori concorso nella sezione Surprise che è una sezione, lo voglio ricordare, del festival che allarga lo sguardo al cinema francese attuale, in generale al cinema di aria francofona, attenta quindi a catturare tutte le tendenze più creative, più nuove di questo tipo di cinema. Allora il cinema di Mamat Saleh Haroun è diciamo, lui è un regista profondamente legato alla Francia, il suo cinema però dagli esordi, fin dall'inizio guarda costantemente all'Africa, al suo paese d'origine, al Chad nello specifico. Ecco, pensiamo soltanto ai suoi tanti film come Mar Altanier, Bye Bye Africa, Anom Kikri, Abuna, insomma per lui il cinema è un ritorno alle tradizioni familiari, ai temi che gli sono più cari, più vicini e quindi anche questo film in qualche modo lo testimonia, un film che si concentra sul tema della maternità. Quindi ecco, la mia prima domanda per Mamat Saleh Haroun è la seguente, poi vorrei appunto che faceste insomma delle domande anche voi. Il tema dei bambini abbandonati in Africa è un tema importante. Come ti è venuto lo spunto per questo film e perché hai deciso di lavorare su questa storia? Grazie, ho deciso di lavorare su questo tema perché il è diventato ricurente. Depi qualche anni, le giorni rende conto di tutti questi nuovi anni che ci sono trovati in delle caratteristiche pubbliche, che ci sono trovati in delle toilette, eccetera. e c'è a partire di questo momento là che mi sono detto che mi ha dovuto pensare su questo problema e ho cominciato a investigare, a interrogare le donne e mi hanno detto che c'era un po' il loro quotidiano. E a partire di questo momento là ho deciso di raccontare questa storia. Grazie di questa domanda. L'idea di trattare questo tema è arrivata perché si tratta purtroppo di un tema molto ricorrente in Chad. Negli ultimi anni sono apparsi diversi articoli che riportano appunto fatti di cronaca di neonati rinvenuti morti nelle discariche pubbliche e a volte anche gettati nei bagni pubblici e mi sono reso conto che era opportuno indagare su questa tragica realtà e ho iniziato veramente a fare un'indagine, a parlare con una serie di donne che mi hanno confermato che si tratta purtroppo della realtà quotidiana e dunque ho deciso di esplorarla maggiormente. Ci sono delle domande? Anche da casa ovviamente chiediamo se ci sono delle domande, se no andiamo avanti io ho delle altre domande da porre al nostro regista e comincerei proprio... c'è una domanda? Ah sì, stiamo per dare il microfono a Grazia Paganelli tra l'altro del comitato di selezione. Buongiorno, a proposito di quello che si stava dicendo e del tema dell'aborto tutto il cinema di Haroun è un cinema che sente una profonda responsabilità e mi piacerebbe sapere da lui qual è la responsabilità del cinema in generale ma in questo caso quella di questo film in particolare. Io non so non la responsabilità del cinema in generale, ma posso parlare della responsabilità del cineasta Haroun e al Tchad, perché io ho una conscienza in generale che tutto il che filmato in generale in generale che tutto il che filmato in generale è emphimere e che il rischio di dispostruire perché c'è sempre una modernizzazione di la ville, di la città, di tutte queste cose che filmo sono state di sì che il filmo in generale che quando ho filmo in generale, che non le filmo in cinza anni sono state più in generale che nel filmo che in cinza anni non vorrò mai essere la quindi questa conscienza mi pousse più lungo in una forma di responsabilità ad archivare tutto ciò che succede davanti a me e i problemi che si posano d'autant più che sono il solo cineasta tchadiano che produce veramente delle immagini in questo paese non so parlare della responsabilità del cinema in generale quello che posso sicuramente dire è la responsabilità che sente Arun, cineasta del tchad ed è una responsabilità che parte da una consapevolezza la consapevolezza che la materia filmica è effimera quindi anche questo film appartiene a questa caratteristica ma più effimera ancora è la realtà che un film è in grado di riprodurre una realtà che potrebbe scomparire quindi io decido di fissare con le immagini una realtà del mio paese della mia città che potrebbe non essere più presente fra cinque anni quindi sento quasi una responsabilità da archivista nel riuscire a testimoniare quello che sta davanti ai miei occhi a maggior ragione per il fatto che io sono l'unico cineasta che esiste nel mio paese e quindi l'unico che ha il dovere in qualche modo di riprodurre in immagini la realtà quotidiana io aggiungo che in fatto anche che ho sono condensato che se non rapporteciate di tchad al resto del mondo non ci non sarebbe e a la limite il mondo si lo fai'è totalmente se non c'i non è di tchad che non si propria il mondo di continuare di vivere quindi vedete il pozzo di questa responsabilità e la seconda cosa è che essendo il sole cinese tchadiano sono diventato un porto-parole c'è dire che le persone mi raccontano delle storie e vogliono che le porto a l'escrizione il cinema diventa un cinema utile e non è un cinema di divertimento vorrei anche aggiungere che la mia consapevolezza è quella che se non fossi io colui che rappresenta il chad il mondo probabilmente non avrebbe alcuna idea e alcuna immagine del mio paese e sicuramente se ne fregherebbe continuerebbe ad andare avanti lo stesso pur ignorando appunto questa realtà ma io sento per parte mia il peso ancora più forte della responsabilità di testimoniare la realtà del chad inoltre proprio per il fatto che io sono l'unico cineasta chadiano sono diventato una sorta di portavoce perché la gente lo sa e quindi mi affida le proprie storie pregandomi di raccontarle per farle conoscere al mondo trasformandole appunto in un film quindi devo dire che il mio cinema ha assunto una connotazione di utilità essenziale molto più che non una forma di intrattenimento grazie io mi concentrerei anche sul titolo di questo film Linghi che significa legami sacri è un titolo molto calzante nel senso che contiene una grande ambivalenza dentro c'è sicuramente il legame sacro come quello della maternità come quello della solidarietà femminile ma c'è anche in nome di un richiamo alla tradizione un tentativo di conservazione in questa parola da parte del potere un tentativo di repressione ecco questa ambiguità diciamo qual è secondo te nel tuo paese l'ambito sociale in cui questa ambiguità è più stridente? l'ambiguità è sempre là par rapporto a la domination si vous voulez al pouvoir dominante e par rapporto in fatto ai gens che sono dominati in realtà e in questo film il y a a l'evidente Amina e sa figlia Maria che sono un po' a la marge e che sono un po' in ruptura di bambi e c'è questo in realtà questi liens sacrii sono in stesso tempo rompiti e in stesso tempo si mette in place quando l'adversità è assez grande è vero che questa ambiguità è sempre presente rispetto all'esercizio del potere dominante sulle persone che sono dominate nel caso del film vediamo molto bene che Amina e sua figlia Maria vivono ai margini della società e quindi il legame sacro è stato rotto nel momento in cui queste due donne sono state emarginate ma riescono in qualche modo a ritesserlo e a ricostruirlo quando devono affrontare insieme le avversità e questo è il concetto veramente fondante del vincolo sacro dell'inghi ossia quello di preservare la speranza in nome appunto di una solidarietà e di una collettività da un lato e l'altro naturalmente l'esercizio del potere tradizionale ossia il potere politico e patriarcale dell'esercizio c'è a dire dell'esercizio dell'esercizio e al txad on dice che quando on meurt e che on arriva al cielo la prima question che vi posiamo come vanno i i e se non non vanno 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 quindi avere buoni rapporto con i vanno immagini è qualcosa di importante e è questo che forza tutto il concetto di vivere insieme e di essere in coesione vorrei aggiungere un ultimo dettaglio sul concetto dell'inghi trovandomi in italia che tradizionalmente è un paese molto gregario dove le persone tendono facilmente ad associarsi alla base del concetto dell'inghi c'è il concetto del vicinato il concetto del vicino di casa è estremamente importante nella società ciaidiana al punto tale che in Chad si dice che quando una persona muore nel momento in cui arriva in cielo la prima domanda che viene posta è come stanno i tuoi vicini di casa e se non lo sai viene giudicato in modo brutto e quindi fondamentale tessere dei buoni rapporti con il proprio vicino proprio perché sono quelli che forgiano il vivere insieme il vivere comune infatti qui c'è un vicino di casa che è importante nel film no? sì tutto sì è il vicino con cui il scandale arriva e quindi è il vicino che rompe ma simbolicamente che rompe il linghi e secondo la acceptazione del linghi al tschad è par la ruptura del linghi che arriva il drame è quando rompe il linghi che arriva il conflitto è in cassare il linghi che divina la tragédia non è per niente che ho preso questo vicino perché questo rinvoce a questa crenza dell'importanza del vicino dell'etica del vicino nel vivere insieme al tschad sì assolutamente il vicino nel film è colui che arriva a dare scandalo e a creare il conflitto perché è colui che simbolicamente rompe il vincolo sacro dell'inghi ed è proprio questo il fondamento della vita in comune in chad ossia o tutte le comunità accettano l'inghi o nel momento in cui l'inghi viene rotto a quel punto si apre la strada al conflitto al dramma che poi può sfociare appunto in una vera e propria tragedia e non è un caso che io abbia scelto proprio la figura del vicino considerando la tradizione dell'importanza di questa figura nella società aciadiana certo ci sono delle altre domande sì abbiamo Giuseppe Gariazzo sempre del comitato di selezione buongiorno Arun intanto volevo ringraziarti per la risposta che hai dato perché trovo che parlare in questo modo dei nostri vicini sia anche un'affermazione molto politica soprattutto in questo momento e poi volevo soffermarmi su un elemento di cui abbiamo spesso parlato insieme in altre occasioni che ricorre in tutto il tuo film dai cortometraggi fino all'inghi vale a dire l'importanza che c'è nei tuoi film l'importanza che tu dai alle mura e ai muri intendo tu filmi molto spesso sia dei muri esterni di strada accanto dei marciapiedi dei muri all'interno delle case ad esempio c'è la scena in cui madre e figlia verso il fine del film sono una di fronte all'altra una accanto all'altra appoggiate a un muro c'è la scena in cui la figlia quasi camminando per strada si sostiene o cerca appoggio a un muro e tanti altri esempi che si potrebbero fare allora la domanda è è davvero un segno un elemento fortissimo quello dei muri che tu hai fin da Maraltani volevo sapere qualcosa che cosa significa per te questo aspetto urbano che diventa un aspetto filmico ovviamente il ne faut pas y voir un signo traditionnel ma la conscience d'une réalité assez importante parce que au Tchad c'est un pays sans ombre d'accord je viens d'un pays aride où il n'y a pratiquement pas d'arbre là où je suis né et tout ça et les murs sont les lieux où on se casse un peu pour trouver de l'ombre donc en fait les murs sont indissociables en fait de 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 la vie des hommes et des femmes parce qu'on est en permanence collés contre le mur à la recherche de l'ombre c'est donc ça en fait c'est à dire le jour où il n'y aurait pas de mur il n'y aurait personne en fait c'est les murs qui font de l'ombre et c'est les murs qui nous protègent un peu de ce soleil ardent dans ces zones très arides voilà si non non è sicuramente un segno della tradizione ma indubbiamente un elemento molto importante nella realtà geografica del mio paese il Chad è un paese dove non esiste l'ombra è un paese talmente arido che non esiste vegetazione non ci sono gli alberi e quindi i muri rappresentano l'unico modo in cui le persone gli uomini e le donne possono trovare ombra e proteggersi e quindi hanno un'importanza assolutamente indissociabile nella vita delle popolazioni che stanno questi uomini e queste donne stanno letteralmente incollati contro le pareti per riuscire a proteggersi il giorno in cui non ci fossero più i muri in Chad non ci sarebbe più un essere umano perché davvero è l'unico modo per proteggersi dal sole coccente che c'è sempre nel mio paese sono amoreuse e poi mi poso questa question a ridosso di questi muri muri che offrono anche un elemento di protezione e consentono di nascondersi cioè da un lato sono rassicuranti perché ci impediscono quando vacilliamo di cadere quindi hanno un che di rassicurante ma questo stesso elemento di rassicurazione avviene anche quando vogliamo nasconderci dallo sguardo degli altri oppure vogliamo guardare a nostra volta senza essere visti quindi sicuramente hanno un ruolo centrale e non ci avevo mai pensato nel firmare i muri ringrazio Giuseppe di questa domanda davvero perché mi ha dato uno spunto di riflessione su qualche cosa che per me era quasi istintivo grazie a Mamat Arun il nostro tempo purtroppo è esaurito staremmo qua a parlare veramente per ore ma dobbiamo concludere questa bellissima chiacchierata voglio ricordare che il film fortunatamente uscirà anche in Italia il titolo però è una madre una figlia in primavera uscirà distribuito da Academy 2 quindi non vediamo l'ora di vederlo al cinema grazie buongiorno allora ricominciamo con le conferenze stampa grazie Caterina Taricano che ha gestito l'ottima conferenza stampa di Lingui noi continuiamo con le conferenze stampa di quest'oggi arriviamo al primo film in concorso che vi è presentato quest'oggi come sapete la selezione del Torino Film Festival è di 12 titoli oggi presentiamo un film a cui teniamo particolarmente parlo a nome del comitato di selezione peraltro prima rappresentato da Grazia Paganelli e Giuseppe Gariazzo che però sono andati in sala evidentemente in questo momento siamo molto contenti perché è un film di animazione cosa che è abbastanza inconsueta per quanto riguarda la selezione dei film in concorso del Torino Film Festival il titolo del film è La Traversée The Crossing il titolo con cui viene distribuito nel resto del mondo con noi al tavolo Florence Miai spero di avere una pronuncia quanto meno accettabile visto che se ne discuteva prima perfetto ottimo grazie ringrazio anche Anna Ribotta che come sempre si occupa della traduzione oltre al pubblico in sala in questo momento della conferenza stampa ricordo che ci potete seguire con i link Zoom quindi salutiamo i giornalisti che in questo momento ci stanno seguendo da casa a cui ricordiamo che possono mandare le domande visto che la nostra Valentina Valentina tua dell'ufficio stampa poi ce le gira allora io comincerei da raccontare la storia di La Traversée perché è una storia di formazione è una storia che parla di guerra parla di due fratelli ed è una storia che colpisce immediatamente parleremo poi della tecnica con cui è stato realizzato il film che è molto interessante però io mi concentrerei almeno sulla prima domanda a Florence se ci può dire visto che il film è scritto da lei insieme a Marie de Plechene come è arrivata la storia di La Traversée De Crossing grazie Grazie per i complimenti su il film. C'è effettivamente il solo film d'animazione di la selezione, d'ailleurs. Io sono molto contenta, perché è raro, è raro che le film d'animazione siano anche sceleccionati in competizioni di film che sono in presa di vio reale. Quindi io trovo bene che questo film d'animazione sia considerato come un film in tant che tel. L'histoire, io l'ai raccontato perché il si tratta di una famiglia che è arrivata per arrivare in Francia e che in 1905, la mia madre ha quittato Odessa a la suite dei pogromi antisemite per se rendere con 10 enfants in Francia. Allora, io penso che lei voleva passare ai Stati Uniti, ma che son voyage si è arrattato in Francia. E in 2005, on ha fatto parlare, effettivamente, del problema dei exili e delle migrazioni. E io penso che queste due migrazioni... C'è effetto con la mia storia, con la mia storia personale. E io ho avuto, effettivamente, di riferi a relire queste grandi migrazioni del XXe secolo che concerne a la fine dei giusti, dei armatiens, dei grecchi, dei italiani, e che partano, effettivamente, in sperando arrivare ai Stati Uniti, come in il film di Elia Cazan. E io volevo relire questo, effettivamente, con queste grandi migrazioni moderni di oggi. Grazie, grazie mille anche delle parole di Encomio e dei complimenti. È vero che effettivamente il mio è l'unico film di animazione in concorso. È altrettanto vero che è estremamente raro avere un film di animazione selezionato in una competizione ufficiale quando normalmente sono considerati lungometraggi cinematografici soltanto i film in live action. Ma è bello che invece sia considerato un film in quanto tale, a prescindere dalla tecnica di realizzazione. L'ispirazione e l'idea del film viene dal fatto che la mia famiglia viene da un altrove e si è poi fermata in Francia, anche se forse l'idea iniziale di mia nonna era quella di arrivare negli Stati Uniti. Nel 1905 ha lasciato Odessa per sfuggire ai programmi antisemiti dell'epoca insieme a dieci figli e appunto si è trasferita in Francia, si è poi fermata in Francia. L'idea è venuta nel 2005 quando si è cominciato a parlare molto di emigrazione, di movimenti migratori e di esili e ho fatto il collegamento che è risultato di un'evidenza straordinaria già allora tra quelle che sono state le grandi ondate migratorie dell'inizio del XX secolo quello che appunto hanno portato da un lato i gruppi etnici perseguitati come appunto gli ebrei, gli armeni ma anche i greci e gli italiani a spostarsi alla ricerca di un mondo migliore spesso appunto intravisto negli Stati Uniti come poi il film di Elia Kazan, Testimonia. Allora, chiaramente qualsiasi... Ecco, esatto. C'è Caterina Taricano che voleva fare una domanda se riusciamo oppure se prende il microfono dietro. Perfetto. Comunque, qualsiasi momento ovviamente chiunque nel pubblico può rispondere. Prego, dimmi. Ah, voleva aggiungere una cosa a Florence. Prego. Sì, per quanto riguarda la tecnica, perché c'era la seconda parte della question, c'è mio primo long-mettaggio, ma ho fatto molti corti-mettaggi prima che sono tutti dei corti-mettaggi molto picturati, molto artistiche e molto artisanali. E per me, c'è stato anche un progetto di raccontare questa storia in utilizzando i motivi della peintura e dell'animazione, ma anche della peintura. possibili. Semplicemente anticipare un accenno a una domanda che forse poi sarà sviluppata in seguito, che però mi hai già fatto, riguardo appunto alla tecnica. Questa è un'opera prima, per me il mio primo lungometraggio, ma in passato ho realizzato già moltissimi cortometraggi su una base assolutamente pittorica, artistica e artigianale. E la mia sfida nel cimentarmi in questo passaggio appunto a lungometraggio è stato proprio applicare i principi della pittura a questo film. Esatto, questo era quello che volevamo dire. Catrina, prego. Intanto buongiorno, volevo innanzitutto dirle che ho trovato il suo film una fiaba meravigliosa, una fiaba che mette insieme, pur non definendo luoghi, non definendo fatti, tutta la storia del Novecento. A me ha ricordato moltissimo un film, un libro che ho amato molto, che è Trilogia della città di Kappa di Agatha Christophe. Non so se c'è qualche legame, in qualche modo, io ho rivissuto e risentito le cose che ho letto nel libro. La situazione che ho avuto nel libro. Noi, abbiamo parlato, dopo che d'autres persone che hanno visto il film en hanno parlato, ma effettivamente non l'avevo luto prima, il libro. Ma effettivamente, potete che il conto di fai, ce n'est peut-être non il mot exacto, io parlerò di conto a la Dickens, perché c'è vero che il n'y'a pas vraiment di figure di fai a propriamente parlare, tutte le situazioni potrebbero essere, n'y'a rien che è féerico, in tutto caso, in loro epopée, ma è vero che è raccontato in forma di conto e nel tempo indefinito della leggenda. Sì, questo libro io non l'avevo letto, altre persone che hanno visto il film mi hanno parlato appunto di questa riflessione, di questa analogia. Più che fiaba, forse io parlerei di racconto alla Dickens, perché non ci sono elementi fantastici, in realtà non c'è nulla di fiabesco, è sicuramente un racconto, ma che parla di una situazione reale, di situazioni reali. Allora, continuiamo invece con le domande a questo punto, visto che Forons ha già accennato prima alla tecnica. È anche curioso il fatto che noi abbiamo fatto la prima conferenza stampa di questa edizione di Torino Film Festival, ieri con Gar Jennings, che ha presentato Sing 2, film ad animazione. Qua parliamo ovviamente del lato opposto della medaglia di quel tipo di animazione. Quanto è, diciamo, il modello estetico di riferimento Sing 2 per quanto riguarda l'animazione digitale classica americana, quanto invece il lavoro di Forons, che ha iniziato, come diceva, con tanti cortometraggi e arriva finalmente a lungometraggio con la traversée, è un tipo di animazione totalmente differente, molto materica, molto quasi palpabile, che secondo me si presta particolarmente bene alla storia che poi il film racconta. Io quindi chiederei proprio a Forons di raccontare come si arriva a mettere a punto un tipo di animazione del genere e se, anche perché è un unicum totale nel genere di animazione, il suo stile, e quindi se ha invece un occhio di riguardo verso il cinema di animazione e se ha anche dei punti di riferimento pittorici e cinematografici. Immagino che Forons non abbia visto Sing 2. Occhio e croce. Allora, effettivamente, il y a pas mal de références dans le court-mettrage. Il y a des gens come Alexandre Petrov in Russia, il y a des gens come Caroline Leaf au Canada, il y a des gens come Laguioni aussi in France che hanno fatto un po' anche questo tipo di film. In Italia, anche, il y a dei realizzatori di corsi come Toccafondo, non c'è proprio la même forma di lavorare, ma che fanno dei filmi che sono molto collegati a una rappresentazione plastica, picturale forte. e dei filmi in peintura animale, effettivamente, c'è fatto soprattutto, quindi ho fatto un po' di références e i propri filmi in cui ho sviluppato ma façon a me anche di fare, ma c'è vero che c'è, a mia connessione, peut-è il primo film, il primo long-mettaggio che sia con questa tecnica, perché è una tecnica che è molto artisanale, che si può bene aborare quando si è solo a fare il film, ce che è il caso per i miei cortometrages, o presque solo a fare il film, e che per l'instant non avevamo ancora partagato, il fallait trovare la façon di partagarlo con un'equipe. È vero che i riferimenti che io ho per questa tecnica appunto pittorica di animazione sono cortometraggi, autori come Alexander Petrov dalla Russia o Caroline Leaf dal Canada, ma ci sono anche una serie di autori di corti di animazione in Italia. Ma è vero che la mia tecnica ha come tratto distintivo appunto il rapporto con la pittura, l'aspetto pittorico, perché che io sappia, questo è il primo lungometraggio che è stato realizzato appunto con questa animazione pittorica, che è una tecnica assolutamente artigianale e come tale prevede il fatto che sia svolta da un'unica persona. Ora, questo tipo di procedimento può avere un senso se si realizza un cortometraggio, ma è vero che nel caso di un lungometraggio è inevitabile la necessità di dover lavorare in squadra e quindi con un'intera truppe di persone. Per me, la force di questa tecnica è che l'animazione si fa direttamente su la camera. C'è dire che, contrairement a l'animazione sia con dei ordinateurs sia più classiche, più industriali, in tutto caso, in generale, in l'animazione, on prepara tutti i dessini all'avance, e una volta che tutti i dessini sono preparati all'avance, più on le film e poi on le colori. Tandis che là, quando io parlo di animazione direttamente su la camera, c'è che on ha una table, al-dessus di la table c'è una camera, on arriva con un decor che l'on place sotto una vitre, al-dessus una, due, tre vitri, e, e su queste vitri الذ Lecorsi che sono placate all'adressate del decoro, si dessine tutte le parti di plan che vorляются per esempio le personaggi che voranno si essentially si dessine, si prende una image, si change un po' il dessino, si prende una image, si change un po' il dessino, si prende una image, ecetera, e che facciamo anche qu'il faut fare 12 dessini comprende due volte per avere una seconda di film quindi c'è una metodo che è abbastanza difficile ma che ha il mérite di avere una materia una materia peinta che è molto vivante perché l'animazione si fa all'imagine e accepta i hasards, i accidenti è obbligato di giocare con questa materia di peintura è vero che è una tecnica di animazione che ha una sua forza intrinseca e che è realizzata a passo 1 con la macchina da presa, contrariamente alla computer grafica o a tecniche di animazione più tradizionale dove normalmente si preparano prima tutti i bozzetti poi vengono filmati e poi vengono colorati, qui il lavoro che viene fatto è a un tavolo sul quale è posta direttamente la macchina da presa dove ci sono delle scene disegnate sotto vetro e sopra l'ambiente disegnato sono sovrapposte una o due o tre lastre di vetro e via via che vengono simulati i movimenti vanno cambiate e modificate queste lastre quindi appunto fotogramma per fotogramma vanno cambiate le varie lastre e si procede con 12 disegni per realizzare un secondo di animazione quindi è sicuramente un metodo molto difficile ma il vantaggio è proprio quello che dicevi tu la matericità dell'animazione il fatto che essendo un dipinto ha un'anima estremamente vitale e vivente che consente quindi quest'immagine molto particolare eccezionale un film che siamo molto contenti di avere in concorso alla 39esima edizione del Torino Film Festival il tempo sfortunatamente stringe ci sarebbe molto altro da dire sulla traversée ci saranno però ovviamente altre occasioni occasioni anche di vedere in sale in questi giorni la traversée di Florence Migliaia io ringrazio ovviamente Florence ringrazio anche Anna Ribotta e ci diamo appuntamento tra pochissimo per un'altra conferenza stampa del Torino Film Festival grazie ok allora ci siamo ricominciamo subito con le conferenze stampa Torino Film Festival Federico Bernocchi Caterina Taricano per in questi giorni per presentarvi tutti i film che sono in cartellone continuiamo con il concorso dopo la traversée che era un film francese d'animazione abbiamo un film che viene dal Canada anche questo in concorso Le Brude Moteur anche qua io chiedo poi Vigne per eventuali errori nelle pronunce che è l'esordio di Philippe Gregoire quindi ringrazio anche per essere qua Philippe Gregoire che io non sapevo è di rara giovinezza e quindi tipo è straordinario ma è anche la forza del Torino Film Festival nel senso che come sapete in concorso ci sono opere prime e opere seconde Le Brude Moteur è un film bellissimo io chiedo visto che racconto poi una storia anche molto particolare la prima domanda che però voglio fare a Philippe riguarda proprio il titolo del film perché pur non sapendo il francese mi rendo conto che Le Brude Moteur il rumore che fanno i motori ha un suono straordinario e il film si apre proprio con questi suoni quindi io vorrei partire da questo prima di addentrarci poi nella storia magari dare la parola anche a voi o a Caterina o le domande che ci arrivano da casa però io partirei proprio dal titolo dal perché di questa scelta e dall'idea che ha anche Philippe del suono di questo film Buongiorno a tutti è una buona question prima il bruito il bruito di cui il bruito il bruito di il bruito di il bruito di il bruito di bruito di bruito e che a un certo momento è liato al personaggio principale di riconoscere il suo villaggio, di riconoscere il suo sentimento di appartenenza a través di un ruolo che è liato a il suo villaggio, quello dei motori, delle piste di accelera che è allo lungo. C'è veramente liato a questa idea di un sentimento che è liato, che apparace completamente strano al principio, ma che diventa familiare con il tempo. Questa idea di unheimlich, 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 che è cambiante. Inoltre, c'è tutta la parte che è liata a la mia autofizione. In il film, c'è messo molti elementi personale con il film e mi rendo conto che, sempre, c'è stato liato a questi ruoli che sono... Il film è girato in un'attività, dove c'è una piste di accelera, e di essere me stesso in extrema e sentire dei rugi di motori che sono così puissanti, così drangeanti, a un certo momento, j'entendais delle caratteristiche in una ville ailleurs e mi sentais me stesso, soudainmente, chez moi. Grazie per questa domanda. Buongiorno a tutti. Quindi, perché le bruit de moteur, cioè il rumore dei motori e non il suono dei motori? E qui si apre veramente tutta una riflessione che riguarda quando un rumore diventa suono e quando un suono diventa rumore. Potremmo forse parlare per molto tempo di questa sfumatura. Però, in realtà, il concetto appunto di rumore del motore riguarda proprio il personaggio, il protagonista del mio film e il villaggio a cui appartiene. Un villaggio dove sentiamo costantemente questo rumore dei motori con l'accelerazione, con il boato dei motori nel momento in cui partono in quarta, per così dire, un rumore che ci crea anche un effetto di distraneazione in alcuni momenti. In questo si innestano degli elementi per me di autofiction perché è un personaggio a cui io mi sento particolarmente legato, che ha molto di me e che riguarda anche la mia realtà, nel senso che viene dal mio villaggio e ricordo appunto perfettamente anch'io questa colonna sonora data dai rumori dei motori che vanno appunto da ruggito dei motori ai movimenti, ai rumori dell'accelerazione e a volte arrivano addirittura a essere fastidiosi pur accompagnando appunto la vita di tutti i giorni. Allora, visto che ha già accennato Filippo a questo aspetto, Filippo viene dal Canada ma è di doppia nazionalità, so che ha anche la nazionalità italiana, così il protagonista del suo film, Alexandre, che però ha un cognome che suona particolarmente italiano. Ci sono molti elementi biografici, quindi chiederei a Filippo appunto di raccontarci come è arrivato a scrivere il suo film, Le brus de motor, e quanto effettivamente poi di lui c'è in questo film. Sì, ma prima parte di autobiografia, autofiction, ho la storia italiana, ho la storia di raccogliere, ho la storia di raccogliere. La storia di raccogliere, la storia di raccogliere, ho la storia di raccogliere, ho la storia di raccogliere. Io ho la storia di raccogliere, ho la storia di raccogliere, quindi io ho la storia di raccogliere, ho la storia di raccogliere, ma storia di raccogliere, è importante per me per me edificio di raccogliere, dove i ragazzi sono venuti, in realtà i ragazzi sono venuti cultivera la terra in Canada, quindi io non ho liato a una pista di raccogliere, ma tutto ciò che aveva nella nostra città c'era questa pista di raccogliere, è stato un luogo super innanzitante e tutti i ragazzi di raccogliere avevano questo luogo che era anche un luogo super interessante a filmato, molto cinematografico, perché è un luogo dove ho l'impression che per la course di raccogliere, non sia di più in più popolare, di brullere l'essence, di brullere, con le nuove generazioni, le nuove valeure, non è qualcosa di più popolare, e credo che questa fotografia, mettere in immagine un luogo per rimanere in memoria prima di riuscione, perché credo che potrebbe arriver in qualche anno. E questo è importante per me, ma potrebbe poter andare da qui e lo aggiungere dopo. Sicuramente c'è un insieme di elementi che rendono questo film autobiografico, e c'è il fondamentale autofiction. Da un lato appunto il mio nonno che era italiano e che è emigrato in Canada, il Canada è un paese che è fatto veramente della somma di una serie di ondate migratorie di tante persone che hanno lasciato la propria terra e mi premeva a sottolineare appunto questo aspetto di accoglienza dello straniero. Il mio protagonista torna di fatto nel suo villaggio, nel villaggio dove è nato e dove è cresciuto e che a un certo punto ha abbandonato, però viene considerato davvero come se fosse improvvisamente uno straniero. Quindi c'è da un lato il tema dell'accoglienza che si ricollega con il tema della memoria e l'importanza di preservare la memoria e quel riflesso più o meno incondizionato che ciascuno di noi ha di paura e di diffidenza verso l'altro, verso lo straniero o chiunque sia percepito come tale ma a grado straniero di fatto non sia. E appunto parlo del mio villaggio, io vivo a Montreal ormai da una decina d'anni però sono di fatto cresciuto lì, quello è il villaggio che appunto scelsero i miei bisnonni dove riuscire ad acquistare un pezzo di terra e avviare un'attività commerciale, l'attività commerciale che di fatto consiste e consistita nell'apertura di una pista per corse automobilistiche e quindi questo è il contesto dove io sono cresciuto, un contesto che trovo splendidamente cinematografico e che ho deciso appunto di rappresentare nel mio film, perché forse non è stato rappresentato abbastanza con tutta la sua valenza che ha a che fare non soltanto con il rumore dei motori e con la velocità delle automobili ma anche con il bruciare i pneumatici, bruciare la benzina, cioè c'è tutta un'iconografia assolutamente popolare, molto importante per me che ho voluto mettere in questo film per conservarla nella memoria. Grazie. 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 Io ero fino a 15 minuti della frontiera tra il Canada e gli Stati Uniti e a questo momento mi mi ha detto che ti stava a lavorare a la douane e io non avevo capito che volevo fare e io ero chiaramente il solo agente, studiante, douaniera che faccia delle studiazioni di cinese. C'era completamente strano, quindi la settimana che faccia delle studiazioni di cinese che mi passionnava e il settimana per pagare le studi, io metto il mio costume di agente di douane e c'era un mondo completamente diverso da quello che ho evoluato. C'era totalmente strano a me, e io devia un po' giocare come se fosse un altro personaggio e io ho incontrato molto di burocratia, molti elementi un po' surreel, absurdo e io trovavo interessante di partare questo aspetto molto particolare, molto diverso di miei altri colleghi in cinese per partare questo nel film, io trovavo un aspetto che io potevo parlare, io lo conoscemmo bene e io ero in posizione di fare. L'altro elemento molto autobiografico è il mestiere del protagonista, ossia il fatto che lui sia un doganiere. Quando io studiavo cinema avevo bisogno di mantenermi appunto gli studi cinematografici che stavo facendo e quindi ho fatto richiesta al governo per chiedere appunto che tipo di lavoro avrei potuto fare che mi consentisse di mantenermi e dal momento che il mio villaggio si trova a 15 minuti di distanza dalla frontiera con gli Stati Uniti, il suggerimento del governo, il tipo di impiego che mi hanno appunto trovato è stato quello come doganiere, come agente delle dogane ed era la situazione più paradossale e assurda che si potesse verificare che credo che non ci sia mai stato un doganiere appassionato di cinema. Quindi da un lato io studiavo cinema per coltivare la mia passione, dall'altro durante i giorni, durante il resto della mia giornata indossavo la divisa da doganiere e svolgevo appunto quella funzione. Questo mi ha dato la possibilità di entrare in contatto con tutta una realtà burocratica che non conoscevo minimamente, è molto lontana da me, molto peculiare, che però mi è sembrato poi interessante mostrare in un film. Domande dalla sala? Do la parola a Caterina Taricano, prego. Si sente? Ok, perfetto. Allora, io volevo ritornare ancora a un momento sulla questione dell'emigrante, dell'emigrazione e della stratificazione della convivenza delle culture, che è qualcosa di molto vivo, che emerge moltissimo nel film. L'emigrante però, io ho notato che c'è anche l'idea dell'emigrante come una persona che non appartiene più al luogo da cui è partito in qualche modo, che lui stesso non si riconosce in quel luogo, ma non appartiene neanche al luogo in cui è andato. In questo senso c'è anche questo viaggio finale che lui fa in Islanda, non solo per cercare appunto questa ragazza, in qualche modo una ricerca di se stesso, se vogliamo, di una sua identità. Io ho trovato molto significative due scene. La prima è quella della terra, dove lui e lei, la ragazza islandese, si sporcano le mani di terra, in cui lui racconta la storia del suo paese. E l'altra è proprio quella su cui è incentrato tutto il film, quella dei disegni, perché lì passa lo sguardo dell'altro. E lui non si riconosce nemmeno lui in quei disegni, così come gli altri non lo riconoscono. Ecco, quindi io le ho trovate veramente molto significative rispetto a questo discorso. L'altro elemento che mi è molto piaciuto, sottolinea proprio la tua capacità anche di trovare delle immagini, di sintetizzare questi temi, riguarda la convivenza delle culture, inglese, francese, e questa ossessione che la ragazza islandese, quando a un certo punto dice, tu conosci André Forcier, il cinema francese, in qualche modo è una sorta di supremazia culturale, quindi io vorrei che commentassi questi due elementi. Ok, tutto d'abord, l'idea dell'accueil, io penso che il personale principale, il protagonista, e a un momento di sua vita dove deve prendere delle decisioni e se rende conto di dove in questo momento di sua vita, per me è importante, il arriva e qualcosa che non aveva mai avuto arrivare, c'è sempre senti una parte identità importante face a son village, face a son endroit, e di essere partita durante un certo momento, e c'è qualcosa che ho comunque che aveva mai avuto, per me rendere conto di tornare in quanto entranzi, e di sentire che mi appartiene, e che svegliamo, on ti fa comprendere che tu n'appartiene più a questo punto. Il tempo è passato, il y a avuto un movimento che si è fatto, e ora, il movimento ha cambiato, e potremmo 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 ti far sentire che tu n'appartiene più, quindi tutta questa idea di dire che devo prendere la posizione di questo personaggio, e se dire, dove mi vai, in quelle direzione, e che devo l'assumere, e che devo la vivere. E questa idea di un sentimento di appartenanza, non è sempre qualcosa che si è messo di avanti, che è una valore, per dire, di un piccolo endroit, di un piccolo village, è molto più a la moda di dire che viviamo a Montréal al centro-vile, che io vorrei vivere in un piccolo endroit, e se troviamo interessante questa idea che può essere presente nel film, che sì, c'è una felicità, c'è un buona in queste piccole cose di vita che ci sono importanti. E poi, su la parte, qual'era la seconda parte? André Forci? André Forci? André Forci? André Forci, la suprématie culturelle. André Forci, l'idée d'André Forci, c'è veramente, parce qu'il y a tutto cette idea qu'au Québec, on a toujours le sentiment d'être des francophones en Amérique du Nord, avec un'identità differente, et qu'on est toujours en situation de minorità. e mi dicevo che c'è il rompendo, io mi ringrazio un po' ailleurs ma non si revienz, c'è questa ragazzi con gli islandabili che hanno una cultura, sono 330 mil persone, con la musica e la identità locale è importante, e il Canada, l'Italia, nel Québec hanno sempre il sentimento di doverte se battere e loro, stavano insinformi nel loro identità islankala, c'è una ragazza interessante, anche se abbiamo 7 milioni, aveva qualcosa da apprendre dei Islandi che sono 330 mil c'è qualcosa che mi interessava e l'idea, sì, di André Forcier di la rencontre le francese è molto presente sì, è chiaro che la france in cinza è un luogo importante culturale che aiment il cinema, che lo mettere di avanti quindi noi in un luogo francophone del Canada, abbiamo sempre un guard che si sta succedendo da questo lato ma io trovo interessante che qualcuno che apprende il francese, apprende a partir di un cinese, che per me è un cinese di la lingua, qualcuno che attraverso le parole, attraverso il dialogo rende questo francese che è francese chebecois completamente chaleureux ma anche poietico quindi io trovo davvero interessante di amener questo personaggio e anche l'idea di partire una cultura, di partire delle idee di cinese magari ci sono persone che per momenti vanno tomber sul cinema di André Forcier che durante le mie studi ha stato un cinese che ho utilizzato e che ho apprezzato Sì, l'idea che ho avuto io era quella di parlare della possibilità che ciascuno di noi ha a un certo punto della propria vita di compiere delle scelte il protagonista ha fatto un gesto molto intimo che è quello che ho fatto io ossia quello di lasciare il proprio villaggio un villaggio dove lui ha tenuto una radice radice che però non viene riconosciuta nel momento in cui lui fa ritorno e viene trattato come un estraneo ma lui stesso prova un senso di spaesamento tornando in quella realtà dove sente di non appartenere più di tanto nel senso che quello che credeva il villaggio della sua memoria non è quello che trova e soprattutto non sono più autentiche le emozioni che lui prova rispetto a quelle di un tempo il tempo è passato e lui ha compiuto dei movimenti degli spostamenti che quindi gli impongono a un dato momento di farsi delle domande di compiere delle scelte che riguardano appunto la direzione che vuol prendere la sua vita dove vuole andare e credo che assuma una particolare importanza il fatto che si tratta di un villaggio un villaggio piccolo non si tratta ovviamente di una città come potrebbe essere Montreal ma in questo c'è una fierezza perché c'è la possibilità anche di trovare una forma di felicità in una realtà che non è quella prevalente della maggior parte della popolazione riguardo appunto la domanda su André Fossier il Quebec è in una situazione particolare perché è l'unica realtà l'unico territorio francofono nell'America del Nord ed è rappresentato da una minoranza ma attraverso l'incontro con una ragazza islandese quindi una donna che proviene da un paese che ha una popolazione di 330.000 abitanti quindi una popolazione piccolissima rispetto al territorio rispetto a una realtà immensa come quella del Canada è proprio la forza e il credere profondamente in un'identità culturale che è quello che prova la ragazza un'identità culturale locale e attraverso questo incontro lui prende coscienza proprio dell'importanza della sua identità culturale attraverso la figura di questo cineasta per cui sicuramente la Francia resta un paese fondamentale come riferimento culturale in particolare cinematografico ma è anche importante apprendere un tipo di lingua che è il francese che è diverso che ha una colorazione completamente diversa che è in grado appunto di arricchire gli scambi culturali e ho pensato che fosse così interessante introdurre questa figura di cineasta che magari avrebbe incuriosito più di uno spettatore Allora il tempo spontaneamente stringe ancora il film si titola Le Brut de Moteur è uno dei 12 titoli in concorso un film straordinario non abbiamo avuto modo di discutere anche il lato diciamo umoristico del film io trovo che Filippo abbia anche oltre un occhio straordinario per l'inquadratura e anche un ottimo senso dell'umorismo che ben si sposa con la sua idea di cinema ringrazio Anna e ringrazio Filippo Gregoire per questa conferenza stampa complimenti Allora buongiorno a tutti benvenuti conferenza stampa di Streler come è la notte film di Alessandro Turci presentato fuori concorso in tracce di teatro che come sappiamo è la sezione dedicata alle contaminazioni tra cinema e teatro allora vado subito a presentarvi i nostri ospiti al tavolo Alessandro Turci l'attrice Andrea Ionasson l'assessore alla cultura Rosanna Purchia e Duilio Gianmaria di Rai Doc salutiamo anche la delegazione del film in prima fila Federica Miglio sceneggiatrice Giuliana Tagliavia musicista Marco Alessi produttore e Paolo Manera direttore di Film Commission Torino Piemonte salutiamo anche il nostro direttore Stefano Francia di Celle questo documentario racconta uno dei più grandi uomini dello spettacolo italiano del secondo dopoguerra Giorgio Streler lo racconta sia nei suoi aspetti pubblici che nei suoi aspetti privati e questo grazie innanzitutto ad un grande corpus di interviste che è stato messo in piedi appunto dal regista e dalla sceneggiatrice interviste che sono state fatte interpellando amici collaboratori stretti di Giorgio Streler e alcuni di loro sono proprio qua seduti a questo tavolo e poi anche attingendo all'immensa miniera che è di documentazione che è l'archivio della RAI anche con un uso molto sapiente di queste immagini ecco io comincerei subito con una domanda perché anzi una degli intervistati proprio Andrea Ionasson all'inizio di questo documentario dichiara come si fa a raccontare un genio beh questa è una domanda che io voglio rivolgere a voi soprattutto in particolare al regista grazie grazie a tutti si sente sì ma come si fa abbiamo cercato sapevamo che erano i cento anni di Streler ma non volevamo che una celebrazione fosse un'occasione banale o scontata per appunto raccontare questo grande maestro allora ci siamo messi come si dice di buzzo buono a lavorare ci abbiamo lavorato un anno prima di tutto un lavoro strenuo che senza Federica non ne saremmo usciti nel caffiano magnificamente caffiano archivio della RAI e poi abbiamo cercato di legare questo archivio appunto con le persone che hanno dato vita alla grande vicenda alle efemeridi di Streler e quindi Andrea prima di tutto grazie per essere qui Rosanna alcuni altrettanto fondamentali non sono entrati nel nostro racconto Giovanni Soresi che è stato come Rosanna che è qui oggi con noi viene da Milano uno storico collaboratore del maestro e allora abbiamo cercato come si fa sempre un documentario di non fare domande scontate di entrare di costruire un rapporto con tutti voi nel tempo e poi abbiamo fatto le interviste ne è nato un racconto che anche noi non potevamo sapere se venisse bene quando siamo partiti ed è venuto però devo dire che Duilio Giammaria come Rai e Marco Alessi come Dugong e Film Commission Torino Piemonte se tu non hai degli interlocutori così capaci anche di darti una grande libertà ma anche di vigilare quello che tu fai non puoi arrivare a un risultato così positivo certo allora intanto vorrei chiedere se ci sono delle domande dal pubblico con i nostri giornalisti in sala c'è una domanda se ecco arriva al microfono gentilmente io sono Steve della casa di Radio Rai di Hollywood Party ho molto apprezzato il documentario mi piacerebbe sapere tu prima alludevi a quanto avete utilizzato degli archivi Rai e al disordine cafchiano che conosciamo però mi piacerebbe sapere quanto hai trovato in archivio di un nome così importante della cultura nella pancia dell'azienda insomma quando Federica ed io abbiamo insieme a Raffaella Palladio di Rai e Federica Ramacci che voglio ringraziare perché sono persone che stanno dietro dietro ma senza le quali fino a arrivano in fondo abbiamo indicizzato nell'archivio Rai Giorgio Streller abbiamo trovato 2700 voci quindi ci siamo seduti ci siamo un po' spaventati e queste 2700 voci abbiamo dovuto razionalizzarle alcune erano doppie alcune quindi poi nel film ci sono circa 45 minuti di archivio il film avrebbe potuto essere tre volte il film o tre film diversi perché alcune cose strepitose non sono entrate ma come sempre un film ha una sua drammaturgia che ci obbliga una volta che abbiamo scelto dato un abbrivio dobbiamo seguire quello però è davvero ricco molto ricco l'archivio della Rai 2700 voci su 700 pagine così grazie c'è un'altra domanda Simonetta Rò sono Simonetta Rò della TGR Piemonte e di TGR Petrarca appunto le scelte come avete costruito il percorso di fronte a tutto questo materiale che evidentemente era straordinario ma voi avete fatto cioè come è nata la scelta del racconto che ha scandito momenti della vita di strada avete dovuto fare delle scelte e ci sono anche dei flashback diciamo insomma si torna indietro su quello nonostante ci sia questa linea temporale che ci ricostruisce quindi ci sono un po' alcuni filoni che avete seguito immagino sia stato molto difficile ma qual è stata la molla scatenante per scegliere il tipo di racconto da fare proprio di fronte intanto alla vastità del materiale dell'archivio e anche alla vastità della vita e degli stimoli che poteva dare un personaggio come Strailer grazie direi in breve due approcci il primo approccio è stato un approccio di assoluta umiltà noi siamo partiti come se avessimo dovuto fare la biografia del maestro perché questo ci permetteva di non lasciare nulla di intentato però abbiamo contemporaneamente cercato di dare un grande calore e quindi abbiamo coinvolto le persone che potevano trasmetterci questo calore e non per nulla il film eccezionale ha questo a mio giudizio il regista non può dire che il suo film è eccezionale il film ha in sé qualcosa di eccezionale diciamo ok di ontologicamente eccezionale che si apre nella casa di Andrea e Giorgio e dove Rosanna ha passato tante ore a lavorare cioè noi abbiamo voluto portare le persone in un luogo dove giustamente per sacro diritto di privacy non si entra e allora questo ci ha permesso ci ha dato la luce poi per raccontare il film sì secondo le efemeridi del maestro ma avendogli conferito quel calore che serve a tenere lo spettatore poi abbiamo sempre cercato di rivolgerci come ha fatto Streller per una vita a uno spettatore senziente che capisce le cose quindi non abbiamo mai semplificato abbiamo cercato di non essere snobbe intellettuali però abbiamo detto le cose per come esserano per cui non abbiamo saltato dei punti fondamentali delle istanze di dibattito abbiamo cercato sempre di dire cioè Streller e come Streller aveva uno streno rispetto per il pubblico noi abbiamo voluto avere uno streno rispetto per il pubblico quindi avendolo preso per un pubblico adulto e grazie al calore umano di queste persone alla vigilanza di Duilio e di Marco Alessi e a tutte le persone e anche gli sponsor che ci hanno sostenuto siamo riusciti ad arrivare in fondo al film poi dovrete dirci voi se è bello o no io avrei una domanda per Rosanna Purchia che ha rivestito molti durante la sua attività professionale molti ruoli apicali nei più importanti teatri pubblici italiani per cui volevo chiederle nel film ci si concentra molto sul momento della fondazione proprio del primo teatro stabile in Italia ad opera appunto di Streller e di Grassi ed è un momento importante si insiste su questo momento proprio anche per l'idea del teatro finalmente inteso come un bene pubblico della comunità ecco io volevo chiederle come cosa ha comportato tutto questo secondo lei per il sistema dei teatri pubblici in Italia ecco buongiorno intanto io oggi è un giorno molto particolare per me perché ovviamente come sapete rivesto diciamo un grande onore e timore un ruolo pubblico in questa città spero di non deludere però nello stesso tempo oggi si guarda a una mia parte importantissima parte della mia vita e della mia formazione che riguarda un genio un genio globale non solo un genio di teatro era un uomo che sapeva streller un uomo che guardava ben oltre il futuro e da poco è uscito un libro che vi esorto veramente a leggere che si chiama tra l'altro curato dal mio amico e collega di tante battaglie di tanti di tanto lavoro Giovanni Soresi che ringrazio di essere qui e di essere con noi che si chiama lettere agli italiani sono tutti scritti di streller politico quindi parlare e quando parlo di politica di streller politico parlo di politica in senso alto nel senso più autorevole di questa parola dove lui guardava e studiava il mondo e sapeva darci degli allarmi su quello che poteva e che poi automaticamente è sempre avvenuto nell'evolversi del sistema politico e anche culturale italiano streller e grassi insieme a Nina Vincchi della quale si parla molto poco la più grande manager teatrale che secondo me è mai esistita e che sarà molto difficile reinventare sono state tre persone che hanno saputo fare la rivoluzione del teatro italiano cioè quello di sostenere che il teatro era come la centrale del latte quando ancora nelle città c'erano le centrali quale teatro come bene pubblico usufruibile da tutti e hanno non solo l'anno qual è la cosa straordinaria che poi è stata la nostra formazione e meno male di non solo annunciare delle teorie ma saperle declinare e saper raggiungere l'obiettivo per dire che il teatro è necessario alla vita di tutti noi come può essere il latte o il pane bisogna fare in modo che il teatro sia altissimo e quindi fruibile come è fruibile il latte e il pane loro ci sono riusciti dicendo la parola teatro un teatro d'arte per tutti loro sono riusciti a fare delle opere d'arte fruibili a tutti nel senso che non erano rivolti a un target c'erano diversi modi di lettura di quell'opera d'arte un target di ovviamente esperti o giornalisti o critici vedevano in quel lavoro e sapevano cogliere in quel lavoro quello che di più profondo c'era nelle parole che Streller metteva in scena invece era anche quello stesso teatro che raccontato alla casalinga di Lodi che visto dalla casalinga di Lodi o da un bambino di 7-8 anni parlo di capolavori come Goethe piuttosto che Molière piuttosto che Goldoni piuttosto che Brecht potevano essere capiti e fruibili da quei bambini ora sembra facile dire questo sembra veramente facile dirlo ma raggiungerlo e farlo per farlo ci vuole solamente un genio come Streller sapeva essere grazie grazie per queste parole io vedo che c'è in prima fila il direttore che vorrebbe fare Stefano Francia di Celle vorrebbe fare una domanda sì io volevo chiedere la signora Jonasson quando il produttore il regista è entrato in contatto con lei per proporre il progetto che cosa quali elementi ha utilizzato per decidere di aderire in modo così importante al progetto buongiorno anche buongiorno a tutti accettare fare queste interviste così a me mi duole sempre molto perché naturalmente mi torna tutta la vita privata con Giorgio raccontare Giorgio per me raccontare un genio è quasi una cosa mi sembra quasi impossibile bisogna vedere il genio ma io che ho vissuto così vicino a lui non posso parlare come tante altre bravissime persone così come visto da furio o guardato ascoltato in platea io che con Giorgio ero un paico scenico che ho dovuto imparare italiano perché non sapevo neanche una parola era talmente preoccupata che spesso discorsi grandissimi non sono riuscita perché pensavo solo come come riuscire a parlare italiano ma raccontare Giorgio una volta fu chiesto come dirige lei maestro e lui ha detto prima non chiamatemi maestro secondo io non so come dirigo le persone devono venire da me a vedere perché non so e a casa mi diceva sempre Andrea oggi non so cosa fare alla prova stamattina o oggi pomeriggio ma poi quando entrava in teatro era un uomo completamente cambiato e la fantasia volava e la sua energia la sua generosità la sua umanità era veramente per me sempre un'avventura era un'avventura molto difficile anche Rosanna sa tutto anche però raccontarlo spero che si capisce bene vedendo il film raccontarlo posso raccontare tantissime cose deprivato come lui era come un grande bambino oppure profondamente depresso c'era un momento di una difficoltà incredibile però era sempre scoprire un pianeta quando si lavorava con Giorgio ma raccontarlo a me mi è molto difficile molto posso dire soltanto che nonostante tutti gli alti bassi anche tempi difficili io l'ho amato e lo amo sempre profondamente anche oggi e mi manca quando faccio il teatro quando mi annoio in teatro mi manca sempre terribilmente grazie grazie allora grazie Andrea nel film si parla molto anche del rapporto che Streller aveva con il cinema che ha avuto con il cinema siamo in un festival di cinema quindi mi sembra d'obbligo ricordare anche questo momento del film la sua esperienza mancata diciamo al cinema la sua notte e nebbia che è diventata come il Mastorna di Fellini molto bello quel momento in cui raccontate notte e nebbia notte e nebbia l'abbiamo già progettato insieme ma poi lui veniva un momento che improvvisamente si è ritirato indietro da una parte perché ha detto se devo fare un film vuol dire che devo abbandonare la mia famiglia il piccolo teatro per un lungo periodo e così siccome non voleva abbandonare il piccolo gli attori tutti gli amici per fare un film ha detto non ce la fa gli hanno addirittura anche offerto per milioni di dollari di fare l'opera tra i soldi con Sting e Liza Minelli a New York però gli hanno detto in una grande arena lui ha detto io non posso prima perché non parlo inglese e non posso fare regia con una lingua che non parlo perché non posso aspettare che viene un traduttore allora con la sua energia con la sua fantasia ha detto di no ha rifiutato milioni di dollari e io ho ammirato moltissimo questo e così anche il cinema Mastona parlava molto di Mastona ma forse c'era anche un momento un po' di non paura sarebbe stato un regista meraviglioso sicuramente con la sua arte di luce già pensare alla sua luce sicuramente sarebbe stata una cosa meravigliosa ma ha detto no io sto con i miei figli che è il piccolo teatro forse perché certo certo perché abbiamo detto prima intanto voglio intanto devo dire nella mia funzione che sono profondamente grata a Raidoc sono profondamente grata al produttore sono profondamente grata a Stefano per aver accolto questo questo documento secondo me importantissimo della vita del più grande uomo di teatro e non solo del novecento su questa cosa qui che io ho vissuto in prima persona insomma in prima in secondo in terza insomma abbiamo vissuto insieme prima tutte le notte intere eri al telefono con Giorgio sì e fa vedere un'altra parte dell'uomo Streler la grande grande grandissima umiltà il dubbio era il suo il suo incubo la sua il suo pane quotidiano quando lui poteva fare tutto Streler non c'era problema di cinema non c'era problema di fare l'opera da tre soldi con Stinghe e Laminelli quindi sarebbe stato uno degli uomini più ricchi del mondo oggi invece non lo è mai stato ma se non aveva la vera padronanza la conoscenza profonda di quel mezzo che fosse il cinema il mezzo dell'inglese che poi non è vero cioè non parlava inglese come parlava francese tedesco che è quasi madrelingua ma quindi non era neanche poi così vero che non parlasse inglese ma non ne sentiva di esserne padrone e allora umilmente era lì e poi faceva un passo indietro e noi soprattutto sull'opera dei soldi io per prima ho fatto una lotta pazzesca perché lui lo facesse non ci sono riuscita e poi che diceva anche l'opera tre soldi non si può fare in un'arena per 5.000 persone l'opera tre soldi è una cosa come l'abbiamo visto noi al piccolo teatro voglio raccontare solo due righe o forse nel documentario quando Precht è venuto alle prove negli anni 56 a vedere le prove dell'opera tre soldi ha scritto a Giorgio Caro Strela vorrei se fosse possibile lasciare a lei tutte le mie opere in tutta Europa uno dietro l'altro grazie per Tolprecht in febbraio 1956 è come un testamento meraviglioso è una grande emozione sentirvi parlare così e dopo aver visto il film perché è veramente molto emozionante il film è molto bello io in conclusione perché i tempi stanno stringendo vorrei passare la parola proprio a Duilio Gian Maria di Raidoc perché ci raccontasse il coinvolgimento proprio di Raidoc nel film noi siamo felicissimi sia del risultato ed è un ringraziamento vivissimo a Marco Alessi e a naturalmente Alessandro Turci che hanno lavorato benissimo in questo documentario e dire anche che avete parlato di cinema e di teatro c'è la televisione secondo me dentro Streler un pochettino io la vedo nel senso che poi abbiamo trovato una lettera meravigliosa in cui Streler comunica con quello che allora era il direttore di Rai 3 era Guglielmi comunicano scrivono e quello è già un passaggio molto interessante in cui Guglielmi scrive a Streler e gli dice guarda dopo la si capisce che c'è stata una discussione viva tra i due intellettuali forse voi ne avrete traccia e si capisce anche che Guglielmi gli dice per fare teatro in televisione dobbiamo trovare un linguaggio adatto alla televisione il famoso specifico televisivo di Guglielmi quindi questa è una prima traccia televisiva che mi è sembrata molto interessante devo dire grandissimo lavoro di ricerca che avete fatto e la seconda cosa molto importante che vorrei dire è che Paolo Grassi è stato presidente della Rai e questo dice quanto all'epoca la televisione fosse saldata questo vostro mondo e la cultura cioè che in fondo oggi vogliamo riprendere e questo documentario è un po' un risarcimento per ritrovare un'unità in cui il teatro diventa racconta se stesso alla televisione in un modo così coerente così efficace ed è questo proprio uno dei progetti di biografia diciamo non solo culturale ha ragione Rossella è anche politico questo film in generale ogni volta che si parla di Streller io percepisco una grande visione politica che è bello condividere non solo con tutti voi ma con il grande pubblico e la tv generalista perché andrà in onda su una tv generalista poi i dettagli ve li daremo insomma credo che abbiamo già una data il 23 dicembre benissimo grazie a Duile Gianmaria grazie a tutti in attesa di vedere appunto questo film oltre che al Torino Film Festival anche appunto in televisione al cinema noi vi salutiamo e vi ringraziamo per essere stati qui grazie grazie ancora allora possiamo cominciare a sederci così cominciamo con la prossima conferenza stampa oggi abbiamo veramente i minuti contati per cui vi chiedo anche quindi di una collaborazione ecco approfitto per salutare il direttorissimo Stefano Freccia di Celle è un bel direttore visto che siamo al secondo giorno di conferenza e quest'oggi adesso cominciamo poi con una infilata italiana abbiamo già cominciato con il film dedicato a Streller però io sono molto molto contento di presentare per fuori concorso Trio Film Lab il film di cui stiamo per parlare Piccolo Corpo Laura Samani con noi quest'oggi ottimo ragazzi c'è Celeste Cescutti e Ondino Quadri che accompagnano appunto Laura per il suo film Piccolo Corpo non solo perché abbiamo anche Marco Morrobei sceneggiatore Chiara Dainese al montaggio Nadia Trevisan per la produzione Paola Malanga per la produzione Mercedes Fernandez Francesco Giai via allora scusa ma con la mascherina diventa sempre abbastanza complesso parlare allora io comincerei proprio con una domanda a Laura sulla storia di Piccolo Corpo perché è una storia estremamente affascinante che ha molto a che fare prima abbiamo parlato di un film in concorso che è La Traverse abbiamo già citato questa parola fiaba racconto insomma trovare un equilibrio così perfetto per una storia di genere è stato molto bello è stato molto emozionante dal punto di vista diciamo dello spettatore io ti chiedo come hai trovato questa storia perché è molto curiosa e molto affascinante no no puoi parlare tranquillamente così fantastico ciao a tutti intanto allora è iniziato tutto nel 2016 quando un signore della mia regione del Friuli Venezia Giulia mi ha raccontato anzi mi ha chiesto se ero conoscenza dell'esistenza dei santuari del respiro la risposta era no ovviamente i santuari del respiro erano appunto delle chiese in cui si performava un miracolo molto particolare cioè si diceva che i bambini nati e morti potessero essere riportati in vita al tempo di un respiro appunto per poter ricevere il sacramento del battesimo ed erano diffusi in tutto l'arco alpino e solamente da noi solamente in Friuli Venezia Giulia ce n'erano ben tre uno è ancora esistente anche se ha perso la funzione originaria perché dal 2007 il Papa ha deciso che non esiste più un limbo quindi non serve più a questo è iniziato così e diciamo che la storia principalmente vuole che fossero gli uomini a fare questi pellegrinaggi e io e Marco ed Elisa ci siamo domandati what if fosse una donna cioè fosse la madre che è interpretata appunto da Celeste Cescutti allora chiaramente io sapete che aspetto anche le domande vostre dalla stampa in sala e Caterina Taricano invece ci porterà nel caso le domande che arrivano da chi ci segue su Zoom ieri abbiamo avuto un'altra conferenza stampa di un film italiano che è Trafficcante di virus di Costanza Quattriglio e insieme a Anna Foglietta hanno sottolineato anche l'importanza di avere quello che tu hai appena detto cioè il what if la storia al femminile io vorrei fare con voi tre un giro di tavolo proprio su questo argomento cioè il fatto che il film Piccolo Corpo sia un film tutto al femminile che racconta una storia del genere da un punto di vista femminile magari cominciamo con te Laura e poi diamo la parola anche alle attrici non c'è mai stata nessuna alternativa cioè non so Marco puoi correggermi probabilmente ma non abbiamo mai pensato altrimenti cioè è proprio nato così non ho molto altro da aggiungere in realtà è proprio nato in questi termini io chiedo a Celeste invece a Ondina se vogliono dire qualcosa su questo diciamo anche dal punto di vista invece lavorativo attoriale su quello che avete fatto per questo film anche perché peraltro so che è fondamentalmente una delle prime esperienze per voi per cui dal punto di vista non ho ben capito la domanda allora guarda se vuoi rispondere su quello che diciamo l'aspetto femminile del film visto che appunto abbiamo sottolineato il fatto che è una storia che solitamente veniva un viaggio che solitamente veniva fatto da uomini e invece nel film viene raccontato dal punto di vista femminile però volendo possiamo tralasciare questa domanda invece ci puoi parlare del lavoro che avete fatto tu a Ondina attoriale su questa storia quindi come vi siete approcciate alla storia del piccolo corpo beh diciamo dal punto di vista del mio personaggio questo femminile è un po' messo in discussione direi quindi è anche difficile dire un punto di vista femminile nel momento in cui poi è un punto di vista maschile quando ci si comporta da uomo e si diventa un uomo non so più se effettivamente il punto di vista è un punto di vista femminile quindi da parte mia è molto interessante questo aspetto appunto dal punto di vista attoriale non so io mi sono trovata molto bene sul set e sicuramente sì c'erano tante donne ma questo non è non credo sia un punto di vista femminile semplicemente di alcune cose si può parlare forse meglio da corpi di donne piuttosto che da corpi di uomini però dipende dalla sensibilità poi delle persone chiaro condito microfono sì secondo me il punto di vista femminile da parte di Agatha è palese è proprio la classica donna del novecento madre di famiglia col marito che però come chiunque vive un momento di svolta nella propria vita e sì secondo me si vede molto soprattutto nel personaggio di Agatha e il valore della femminilità che è quasi stereotipata perché delicatezza è quasi santità nel suo essere donna in quel momento e dal punto di vista attoriale direi che condivido quello che ha detto Honda e anche sul set il fatto che ci fossero maggiormente donne io non so se sia voluto o meno però penso che non abbia influito sulla storia del film perfetto prego Laura vorrei aggiungere una cosa che appunto agganciandomi a quello che ha detto Celeste è stato completamente casuale in realtà se stiamo parlando anche di proporzioni tra uomini e donne sul set perché a me piace circondarmi di persone che mi fanno stare bene innanzitutto e questa cosa prescinde dal genere invece sui personaggi sulla questione del femminile nei personaggi posso dire delle cose che sono degli spoiler sì l'abbiamo visto il film sappiamo di cosa stiamo parlando sì parliamo di personaggi che sono femminili ma che sono stati costruiti secondo due archetipi contrapposti quindi appunto l'archetipo maschile nel caso di Lynch e l'archetipo femminile poi ovviamente questa cosa era presente in sceneggiatura era presente nella nostra testa e sicuramente ci ha guidato in qualche modo nel lavoro ma di fatto va per fortuna a farsi carne questa idea a farsi carne a farsi spirito e preso corpo in loro due quindi perfetto allora domanda dalla stampa in sala prego Nicolo Buttigliero di Cine Dams è una domanda per Laura ma per chiunque voglia rispondere è più che una domanda volevo approfondire un punto cioè nel film è importantissimo nominare per strappare all'inesistenza le cose c'è anche un discorso su questo cioè quello che non vediamo non esiste si esplora questa situazione di limbo in particolare mi interessava un po' approfondire il finale cioè Lynch è da il nome di qualcosa che non ha mai visto e che per lui non esiste a questo corpo e volevo un po' meglio capire questa dinamica cioè il fatto che dia il nome mare anche qui un'idea di acqueticità di fluidità assoluta il nome di qualcosa che non ha visto qualcosa che esiste solo per un attimo questo grazie grazie per la domanda e passerò la palla a Dondina tra poco perché il nome l'ha scelto lei e sulla questione del nominare sì cioè ne eravamo veramente ossessionati con Marco ed Elisa con i coautori ne abbiamo parlato fino allo sfinimento e tutto il film è costruito su questo cioè se le cose non hanno un nome non esistono ma addirittura se partiamo appunto dalle sacre scritture cioè in principio era il verbo quindi bisogna dare un nome alle cose per permettere che esistano e questo diciamo è il grande macro concetto da cui siamo partiti e se ci fai caso durante tutto il film viene chiesto in maniera molto insistente anche ripetitiva ad Agatha come si chiama e lei raramente lo chiede anzi forse non lo chiedi proprio mai no no non lo chiede proprio mai e noi non sapremo mai come Agatha voleva chiamare la bambina è un'osservazione che può anche morire qua però noi non lo sapremo mai e invece appunto il fatto che ci fosse questo passaggio di testimone il fatto che fosse lince a doversi far carico di questa responsabilità lince di cui non sappiamo il vero nome peraltro quindi tutto un gioco di vuoti e di pieni sulla scelta del nome della bambina in sceneggiatura è cambiato un paio di volte e non ve lo dico e poi per molto tempo è stato XXX cosa che destava grande ilarità sul set peraltro perché pensavano che veramente volessimo chiamare così la bambina e invece è stata onda decidere fatto un po' di sperimenti quando abbiamo girato quella scena ancora non eravamo sicure di come si sarebbe chiamata questa bambina e quindi era molto bello anche fare la scena senza che nessuno sapesse che il nome sarebbe stato rivelato ovviamente c'era tanta suspense anche tra le persone lì guardando lo schermo e poi questo nome è venuto un po' vabbè dal fatto che c'è un'altra scena del film in cui Agatha parla a Lynch del mare e Lynch non ha mai visto il mare però mentre io penso che il personaggio di Agatha in qualche modo deve compiere una trasformazione nel film che non riesce a portare fino in fondo il personaggio di Lynch invece compie una trasformazione e anzi sta compiendo una trasformazione continua a trasformarsi all'interno del film anzi forse alla fine del film inizia veramente il suo percorso identitario in qualche modo e quindi in qualche modo dare il nome di qualcosa che si desidera ma che non è lì che è solo immaginato può essere parte di questo processo appunto di trasformazione verso l'ignoto che non è entrare in un'identità che è quella ma appunto aprirsi e andare rimane affascinante chiamarlo XXX chiamare XXX in onore del film di Vin Diesel immagino peraltro se ci sono altre domande ovviamente dalla stampa se no noi continuiamo io Laura ti volevo chiedere come hai scoperto invece Celeste visto che è all'esordio possiamo raccontare le due versioni dello stesso incontro potenzialmente perché nel 2017 abbiamo fatto un open casting per trovare appunto una protagonista temporanea per girare un promo principalmente con l'obiettivo di testarci come troupe di vedere se ce la facevamo eravamo in grado ma anche di chiaramente avere qualcosa da mostrare ai futuri potenziali ambitissimi finanziatori e di conseguenza mi sentivate fino a qua sì ok di conseguenza con Nadia ci siamo dette giriamo un promo troviamo dei personaggi appunto un interprete momentanea e a questo open casting a me interessava lavorare in dialetto quindi assolutamente non necessariamente con attori professionisti o con esperienze pregresse e mi sembra che abbiamo fatto una call per ragazze tra i 18 e i 25 a Udine quindi con una geografia specifica e io in testa ma anche scrivendo avevamo in testa una agata molto fragile molto inquietta animata da un'ansia febbrile quindi avevo un'idea molto precisa e poi è arrivata Celeste che per carità non ho la presunzione di dire che uno possa capire una persona nell'arco di 5 minuti in cui si fanno due foto e non si chiacchiera in realtà perché non è che abbiamo chiacchierato ma c'era una vibrazione sembra un po' fricchettona sta cosa che sto dicendo ma insomma c'era una vibrazione molto potente molto interessante soprattutto diversa rispetto a quello che mi ho raspettato fino a quel momento questa è la mia versione infatti chiederei a questo punto l'altra versione l'altra versione semplicemente una mia amica mi ha detto ah sai c'è questo casting e vuoi venire con me? e io sì ma senza sapere per che cosa pensavo fosse tipo per fare la comparsa o la figurazione poi invece incontro Laura che in quel momento mentre sono al casting mi racconta in realtà brevemente molto brevemente la storia del film e che cosa stava cercando e lì effettivamente anch'io capisco quello che ha detto Laura secondo me si è creata una connessione non visibile non sempre dalle parti della fricchettonata ma però capisco e anzi invidio molto l'idea che tutte e due avete provato la stessa cosa Laura hai detto hai parlato dell'esigenza del dialetto della lingua che insomma guardando il film non potrebbe essere altrimenti ma è comunque una scelta coraggiosa e specifica precisa guarda nuovamente non è mai stata questionata come cosa noi chiaramente abbiamo scritto in italiano anche perché ci sono tre dialetti più una lingua perché c'è anche lo sloveno che nessuno di noi parla cioè che magari appunto io posso avere l'orecchio perché sono dialetti della mia regione ma non è mai stata nuovamente un dubbio una questione perché per me era una scelta politica girare in dialetto nel senso che come sappiamo dopo l'unità d'Italia c'è stata un'italianizzazione forzata con il fascismo ancora di più nella mia regione in particolare è stata violentissima questa italianizzazione come sapete il Friuli Venezia Giulia confina con la Slovenia e con l'Austria ci sono stratificazioni tuttora presenti ma era vietato parlare in dialetto soprattutto se era quello di influenza slava insomma neanche tralasciando sottolineando il fatto che essendo il film ambientato i primi del Novecento non si parlava in italiano ma tutt'oggi in tantissime zone non si parla cioè pensano in dialetto molte persone e viva Dio cioè bellissimo quindi da un lato c'era appunto questa necessità di aderenza storica e dall'altro proprio è chiaro che si può girare un film ambientato all'epoca ma girarlo in italiano ma perché? Sì risulterebbe appunto risulterebbe abbastanza abbastanza bizzarre abbastanza strano noi sfortunatamente dobbiamo chiudere io ringrazio moltissimo Laura Samani Celeste Cescutti Ondina Quadri e Lince per aver partecipato alla conferenza stampa di Piccolo Corpo un film assolutamente straordinario fuori concorso Torino Film Lab e ringrazio anche Marco Borromei sceneggiatore del film Chiara Dainese Nadia Trevisan Paolo Malanga Mercedes Fernandez e Francesco Giai che hanno accompagnato Piccolo Corpo grazie mille grazie mille grazie allora continuiamo con come detto con le conferenze stampa 39esima edizione di Torino Film Festival continuiamo con il cinema italiano io sono molto contento perché adesso presentiamo un film un altro film della sezione fuori concorso Re Granchio abbiamo con noi Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis grazie per essere con noi quest'oggi ragazzi ma non solo perché abbiamo anche Tommaso Bertani Paola Malanga e Giacomo Lamborizio che sono appunto grazie grazie anche a voi per essere qua con noi commission del film peraltro io sono molto contento perché il film uscirà al cinema massimo quindi da qua a pochi passi in esclusiva dal 6 dicembre quindi ci sarà la possibilità per chi non vede Re Granchio in questi giorni di vederlo al cinema massimo esordio assolutamente folgorante io vi chiedo la prima domanda e poi lasciamo la parola anche alla stampa non solo presente in sala ma anche chi ci segue la casa non solo da dove viene la storia di Re Granchio ma da dove venite fuori voi due nel senso che wow finalmente tipo vedi un film del genere e dici ma dove eravate fino a quando ho visto io il film Re Granchio è il terzo capitolo di una trilogia che è iniziata con la nostra collaborazione nel 2013 che parte da delle storie ascoltate dentro una casina di caccia i primi due film erano dei documentari e il terzo film avendo poi noi ascoltato una storia che aveva pochi elementi perché diciamo era persa nella memoria delle persone che lo raccontavano essendo una storia del 1800 fine 1800 con questi pochi elementi siamo dovuti entrare diciamo in un altro tipo di di ambiente che è quello più della finzione e nel farlo in realtà ci è sembrato naturale avevamo sentito il nome di questo personaggio Luciano che viveva in questo piccolo paese aveva commesso un frattaccio e poi era stato esiliato questi erano gli elementi che avevamo quindi poi ci siamo sapevamo che erano sapevamo che il personaggio era emigrato in Argentina e abbiamo fatto una ricerca siamo andati in Argentina e abbiamo iniziato a indagare diciamo delle storie locali soprattutto della Terra del Fuoco diciamo la parte più meridionale dell'Argentina la punta dell'Argentina e abbiamo mescolato queste storie alla nostra storia quindi il film diciamo è un tentativo di riprodurre una storia che abbiamo ascoltato oralmente che piano piano si allaccia da nuove storie nel farlo cambia e poi portandola dall'altra parte del mondo appunto diventa una cosa più grande e quindi è una leggenda anche perché appunto dalla Tuscia poi alla Terra del Fuoco e fondamentalmente hai già spiegato quello che vi sto per chiedere però visto che abbiamo anche presentato prima Piccolo Corpo che è un altro film italiano che anche lì partiva da una storia reale raccontata quindi un aneddoto una leggenda di quelle che si passano e poi per voi è la prima volta nella fiction diciamo mettiamola così e bisogna è difficile immagino trovare l'equilibrio tra quello che è un racconto reale anche se è riportato oralmente e poi invece trasformarlo in una fiction voi avete trovato secondo me uno straordinario equilibrio non solo dal punto di vista narrativo ma anche dal punto di vista della messa in scena che restituisce quel tipo di respiro cioè una storia vera ma dai confini quasi surreali fiabeschi se vuoi come tal se non era una domanda era tipo dei confini no già la spiegazione era fantastica sì noi abbiamo diciamo lavorato abbiamo iniziato come diceva Matteo filmando questi questi due documentari prima di Regranchio e con Regranchio avevamo già da tempo la fantasia di far interpretare alle persone che ci raccontavano la storia un film e quindi metterli in una situazione di finzione appunto e in questo caso Regranchio è questo è il tentativo di partire da un racconto orale in una piccola città della Tuscia e far esplodere la narrazione trasformandola in un western in un western di genere dall'altro lato del mondo ottimo mi piace moltissimo la definizione western di genere chiedo se ci sono domande prego allora lì c'è buongiorno Michelangelo Morello di Cinedams e volevo porre una domanda siccome dopo La Belva Nera e il Solengo ancora il rapporto cioè l'ambiente esplorato parzialmente in questo film è ancora quello della Tuscia volevo chiedere il vostro rapporto con questo tipo di ambiente anche in ottica magari futura senza troppi spoiler e anche se avevate in mente delle composizioni magari artistiche o atmosfere per quello che avete poi prodotto a livello sia di inquadrature sia a livello di fotografia perché è davvero un livello altissimo quello che abbiamo visto in sala abbiamo lavorato con Simone d'Arcangelo alla fotografia e siamo partiti dalla costruzione abbiamo cercato di riprodurre una fiaba inizialmente e trasformarla con il passare della narrazione in un western di mare volevo dire che dire per noi per noi la Tuscia è il luogo dove nascono le storie questa casina di caccia da questa casina di caccia è nata la narrazione diciamo dei nostri documentari precedenti e questo è anche di questo è una piccola casina di caccia al centro della Tuscia fuori dal paese di Veiano dove appunto siamo arrivati nel 2013 abbiamo conosciuto il proprietario e la moglie anche e appena l'abbiamo vista abbiamo detto oddio dobbiamo fare un film con lui perché appunto era un personaggio pazzesco e ogni dieci minuti arrivava qualcuno amici suoi come se fosse diciamo il luogo sembrava quasi una taverna di un vecchio western e ognuno di loro ci raccontava delle storie e quindi quindi di base abbiamo replicato ciò che abbiamo visto e poi abbiamo creato un rapporto appunto durato vari anni con loro in cui ci è sembrato naturale di trasformarli appunto in degli attori cosa che avevamo cercato di fare anche nei documentari grazie grazie per la domanda è vero in questi casi andrebbe messo un veto di dire certe cose nelle conferenze stampa però solitamente si dice i luoghi sono un po' i protagonisti del vostro film la Tuscia e poi l'Argentina però è vero che sono talmente forti visivamente sul lavoro che avete fatto poi col direttore della fotografia e le inquadrature che effettivamente rimangono talmente dentro che sono poi effettivamente protagonisti visto che si parlava di western western di mare aggiungerei anche un po' western decadento comunque tornando proprio al genere ultima parte del cinema western visto che il personaggio è uno dei più grossi loser e perdenti che si possano immaginare prima si parlava di fattaccio ma è un accolizzato un rietto questo è un personaggio stranissimo quanto avete cambiato rispetto a quello che vi è stato raccontato quindi oppure proprio così no noi avevamo alcuni elementi erano pochi e quello che volevamo fare con il personaggio di Luciano è di avere un borghese in un paese composto solo da contadini e poi dalla nobiltà dal principe diciamo e quindi volevamo un alieno una persona che stava in mezzo a queste due realtà e quindi una persona che cerca di fare delle cose ma non riesce non riesce a decidere nulla cerca di perseguire l'amore ma lo distrugge e nel farlo appunto non solo abbiamo lavorato alla scrittura ma abbiamo lavorato a stretto contatto con Gabriele Silli che poi è un artista Plastico che un po' ha diciamo scolpito se stesso il personaggio con il nostro aiuto però appunto dedicando tantissimo tantissimo tempo al film e appunto trasferendosi nel paesino per più di un mese per creare diciamo la reputazione che poi necessitava il suo personaggio e trasferendosi tra l'altro per la preproduzione molto prima della preproduzione in Argentina per imparare lo spagnolo imparare l'argentino non lo spagnolo vuoi aggiungere qualcosa? no ok perfetto un'altra roba che vorrei chiedervi è una domanda piuttosto semplice immagino anche banale dal vostro punto di vista però è chiaro che quando un film almeno così per chi lo vede così chiaro nel suo intento e poi scopre che è diretto da due persone esiste una collaborazione stretta tra voi due come lavorate sul set come lavorate in fase di scrittura siete due persone differenti vi conoscete da una vita fate lavorate assieme però e due persone creano un film e quindi è interessante per chi lo vede capire come lavorate come coppia noi come dici ci conosciamo da una vita siamo amici d'infanzia e quindi abbiamo un dialogo fluido però lavoriamo diciamo insieme sullo scontro direi quella è la caratteristica ci occupiamo entrambi di tutto e quindi ogni decisione è frutto di lunghe discussioni lunghi confronti sia appunto artistici narrativi con i nostri collaboratori e il modo in cui lavoriamo no anche perché appunto avete detto che avete parlato insieme anche a Luciano per spiegare il personaggio quindi l'avete raccontato entrambi prego scusami te interrotto il film è anche è un lavoro corale in realtà non solo nostro ma a frutto della voce di tanti i nostri collaboratori e anche degli interpreti poi noi siamo diversi però quella diversità secondo me genera qualcosa di interessante almeno dal punto di vista nostro lavorativo è lo scontro esatto è lo scontro da cui uno impara chiaramente ed è secondo me interessante da quel punto di vista certo altre domande dalla stampa in sala Caterina e fuori Caterina non so se sono arrivate domande invece dalla stampa ok invece appunto avete citato la lingua c'è stata anche l'opportunità e la necessità di far riparare l'argentino quanto è importante per voi prima con Piccolo Corpo abbiamo parlato di girare in dialetto qua invece si passa da diciamo la lingua italiana a un altro tipo di lingua e quanto questo poi crea anche un senso di straniamento perché guarda il film quanto è importante per voi anche aver varcato i confini della tuscia essere arrivati in Argentina e confrontarvi con un'altra lingua si molto il personaggio il personaggio fugge nella terra del fuoco al sud dell'argentino dove si parla lo spagnolo e quindi è importante che nel film si mantenga questo stacco va bene allora io a questo punto se non ci sono altre domande io vi vi congedo ricordo che il film sarà in esclusiva dal 6 dicembre al cinema massimo qua a Torino quindi ci sarà l'opportunità di vederlo vederlo in sala è un assolutamente necessario perché il film ha una potenza visiva incredibile e quindi è un regalo che fate a voi vederlo in sala non sarebbe possibile altrimenti immagino io quindi ringrazio Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis registi di Regranchio e approfitto anche per salutare il produttore Tommaso Bertani Paola Malanga e Giacomo Lombirizio che hanno accompagnato il film grazie mille e complimenti ancora grazie a voi grazie buongiorno a tutti benvenuti continuiamo con le conferenze stampa di Torino 39 ricordiamo che siamo sempre collegati online su Zoom con le persone che ci seguono da casa con i giornalisti che sono invitati a fare domande a chiedere insomma curiosità riguardo ai film che presentiamo qui in conferenza stampa e ovviamente aspettiamo anche le domande dai giornalisti presenti in sala allora vado a dare il benvenuto ai nostri ospiti anzi prima diciamo che stiamo parlando del film Santa Lucia esordio cinematografico di Marco Chiappetta presentato nel nostro fuori concorso allora benvenuti a tutti abbiamo qui seduti al tavolo Angelo Curti vado in ordine Marco Chiappetta e Andrea Renzi in prima fila salutiamo appunto il resto della delegazione del film Lino Fiorito Clarissa Curti Antonio Grambone Valeria Ricca Stefano Chiappetta Rita Santamaria Giulia Sallustri Flora Fiume e Costanza Boccardi allora cominciamo subito questo questo è un film che racconta una storia privata che però ha un valore fortemente metaforico diciamo che nel cinema nel teatro nella letteratura quando si parla di persone non vedenti diciamo il valore simbolico è subito molto molto forte insomma qualcosa che è rimasto un po' scolpito nella memoria dai tempi di Omero ecco e questo è un po' un viaggio un'odissea proprio della memoria anche attraverso la storia di una città che è l'altra protagonista del film proprio che è Napoli e io vorrei appunto aprire questa conversazione sul film proprio partendo da questa considerazione e chiedere appunto di farlo a Marco sì senza dubbio la cecità del protagonista non è solo fisica ma anche metaforica appunto è una sorta di odissea un Omero uno scrittore anche anche influenzato da Borges che ritorna in questa città che non può più vedere e che può sentire attraverso gli altri sensi l'immaginazione e i ricordi quindi da questo punto di vista a me non interessava né dal punto di vista della scrittura della recitazione ma anche dal punto di vista visivo sottolineare eccessivamente l'handicap del protagonista perché non era quello il punto focale del film piuttosto raccontare come questa cecità simbolica interviene nella vita di quest'uomo con tanto passato e poco futuro e che si ritrova quindi a vedere anche appunto attraverso il tatto l'olfatto l'udito questa città che è cambiata e che lui non sa più riconoscere che è rimasta quella che aveva lasciato 40 anni prima al tempo stesso una città che lui ha rielaborato nella sua mente nel corso di questo esilio bene grazie ci sono delle domande intanto una domanda adesso arriva il microfono ci sono diciamo c'è un tempo tecnico dovuto al fatto che il microfono lo ricordiamo viene disinfettato ogni volta eccolo allora Claudio De Pasqualis collaboratore di Radio Rai volevo chiedere se l'esigenza di fare un film sulla memoria è un fatto legato all'attualità alla contemporaneità di quest'epoca in cui la memoria probabilmente visto che viviamo un'overdose di immagini tende sempre a scomparire o c'è dietro un altro tipo di messaggio sicuramente quello che dice è interessante perché credo che sia un'epoca quella di oggi anche nel cinema e in tutti tutta l'arte molto frenetica dove non c'è neanche il tempo per conservare il ricordo di quello che accade che già dopo poco svanisce però diciamo che il tema della memoria mi ha sempre affascinato anche nei film nei libri che ho letto e che mi hanno formato ed è qualcosa che ho cercato di investigare anche nei primissimi cortometraggi che ho fatto in maniera del tutto indipendente quando ero appunto all'università o anche prima al liceo e quindi mi ha sempre interessato raccontare la memoria cioè il ricordo e non per forza attraverso la struttura classica convenzionale del flashback quindi al di là ora del tema principale del film mi interessava raccontarlo in un modo che fosse il più possibile originale e credo che sia un tema che voglio continuare a esplorare anche nei prossimi film mi affascina e diciamo mi ossessiona anche nella vita quotidiana anche questa nostalgia per un passato di questi personaggi mi affascina questo tipo di personaggio come il protagonista che è bloccato in questo passato non riesce a vivere il presente e non vede il futuro davanti a sé è una situazione che diciamo mi interessa molto esplorare grazie io avrei una domanda per Angelo Curti e Andrea Renzi che sono due artisti che sono stati fondamentali proprio nella fondazione dei teatri uniti che è stata un'altra esperienza fondamentale della cultura italiana ecco dunque io volevo chiedere appunto come questo lavoro si collega all'esperienza dei teatri uniti perché i teatri uniti come sappiamo sono quelli che hanno dato vita a esperienze straordinarie come quello di Mario Martone di Paolo Sorrentino di Stefano Incerti insomma potremmo elencarne tantissimi quindi se volete rispondere entrambi Angelo posso rispondere io all'inizio questo è un altro esordio un esordio a distanza nel 91 cominciamo a lavorare a morte di un matematico napoletano nel 2001 all'uomo in più e nel 2021 è arrivato Marco anche se Marco in realtà è arrivato molto prima durante le riprese ci siamo ricordati della prima volta in cui ci siamo incontrati e effettivamente la prima email che mi schiesse Marco risale al 2010 Marco aveva 19 anni ci abbiamo messo 10 anni per fare il film però credo che siano stati 10 anni molto proficui nel senso che c'è stata una specie di crescita comune e l'altra caratteristica di questa esperienza di produzione è che siamo riusciti a mettere insieme delle realtà diverse a parte la nostra di Teatuniti che comunque è arrivata a compiere un suo percorso ci sono i nostri coproduttori della Rivel Film Maurizio Fiume che ha seguito Marco dall'inizio in quel lavoro assimilabile a quello che faceva Nicola Giuliano con Paolo Sorrentino ovvero un lavoro di tutoraggio continuo io in realtà non mi piace andare sul set mi piace anche se poi naturalmente ci vado mi piace seguire l'inizio dei progetti e molto di più quando il film è pronto il suo affinamento al tavolo di montaggio dove abbiamo avuto la fortuna di avere Giorgio Franchini abbiamo avuto Lino Fiorito per le scenografie Dario Londanini per il suono Costanza Boccardi per il casting quindi la squadra che aveva lavorato l'uomo in più venti anni fa insieme a una truppa fatta di ragazzi di tutti nati negli anni 90 quindi credo che questo sia importante proprio come esperienza e poi non va sottolineata come già avvenne per l'amore molesto il sostegno della famiglia Chiappetta io ripeto sempre che noi siamo riusciti a fare il film di Mario Martone grazie al sostegno della famiglia sostegno significa moltissime cose non solo materiale ma anche con una parola fuori moda ma che a Torino si usa spirituale la famiglia Chiappetta che sono presenti in sala ha dato al film quella spinta necessaria perché potete immaginare quanto sia stato difficile realizzare questo film nel corso degli anni quanto sia stato difficile realizzarlo dopo che abbiamo cominciato le riprese per le interruzioni del virus e credo che sia un'opera assolutamente originale se c'è un pregio non somiglia a quello che di solito si vede in giro nel cinema italiano e speriamo grazie appunto all'apporto poi dei due protagonisti perché Renato e Andrea che tra l'altro avevano fatto un ruolo simile nella versione televisiva del nostro spettacolo erano stati parenti padre l'uno dell'altro e anche in questo caso nel film la relazione che cerca i personaggi va al di là delle età anagrafiche quindi penso che questo possa essere la degna conclusione di un percorso di produzione di Teatri Uniti grazie Andrea sì diciamo Teatri Uniti si è sempre fatto guidare da da un'idea molto semplice che è quella di incontro tra artisti e questa questa idea ha permesso la nascita di tanti spettacoli di tanti film come ha ben raccontato Angelo e l'incontro con Marco ci ha fatto sentire che c'era una necessità di questo di questo racconto che è un diciamo è un'esigenza che ci è sempre piaciuto raccogliere che c'era una bellezza della della sceneggiatura della storia una originalità e e quindi insomma abbiamo proseguito con diciamo anche quel senso artigianale del lavoro che abbiamo cercato di di far scorrere nelle esperienze teatrali soprattutto a diciamo a confrontarci sulla sulla sceneggiatura sul sui personaggi e mettendo a disposizione le nostre competenze per per un incontro per un incontro e per un'opera per un'opera prima insomma che è sempre qualcosa che ha un un'energia particolare speciale insomma per un po' per tutti quelli che partecipano c'è stato un incontro di generazioni sul set e questa è anche una cosa bella e importante a proposito di quello che dicevi mi è venuto in mente che Paolo Sorrentino con il suo ultimo film è stata la mano di Dio in qualche modo segna un ritorno a casa un desiderio di ritornare a casa alle origini e e così vostro raccontare anche questa Napoli inedita in qualche modo segna anche una volontà di ritornare alla vostra matrice artistica è stato molto particolare il rapporto che il film instaura con la città anche perché spezzato da appunto l'evento diciamo storico che ci avvolge tutti dalla pandemia nel senso che l'idea di questa di questa città deserta che colpiva fin dalla prima lettura della sceneggiatura era un'immagine totalmente inedita di Napoli quando abbiamo letto e quando abbiamo iniziato la preparazione nel giro di pochi mesi invece l'immagine che proponeva Marco è diventata una realtà che tutti abbiamo potuto toccare questo ha diciamo sfasato positivamente anche il nostro rapporto con la sceneggiatura con la storia sì sull'idea del ritorno a casa voglio dire credo che sia ecco un'enorme metafora come quella della cecità insomma nella quale tutti possiamo sempre riconoscerci insomma l'importante è avere anche il viaggio e l'esplorazione oltre a un'idea di ritorno insomma e questo con Marco è stato possibile insomma per quello che riguarda l'esperienza interna insomma nel fare il film quindi speriamo che si trasmetta a chi lo vede certo intanto chiedo sempre se ci sono domande c'è un'altra domanda sono Steve della casa anch'io di Radio Rai volevo che mi parlaste un po' di più di questo tema dell'incontro tra generazioni del quale al quale tutti e tre avete accennato che credo che sia forse quello che è maggiormente visibile nella nella visione del film cioè si ha proprio l'idea di questo di questo scambio di questa intensità di questa di questo intreccio di apporti ci potete soprattutto il regista descrivere un po' meglio come è stato come è avvenuto dal punto di vista pratico allora sicuramente come accennava prima Angelo noi io sono entrato diciamo nella famiglia di Teatri Uniti tra frequentazione collaborazioni circa 11 anni fa quindi nel corso del tempo io sono maturato e cresciuto a contatto con tutti questi artisti che avevano segnato la storia degli ultimi 30 anni a Napoli in Italia del teatro e del cinema quindi chiaramente ero influenzato da questo tipo di persone e chiaramente fortunatamente la produzione ha messo a disposizione mia queste esperienze appunto dagli attori Andrea e Renato che sono gli attori chiaramente esperti che non devo presentare al montaggio Giorgio Franchini il casting il suono anche il lavoro sul montaggio del suono abbiamo Marco Saitta che ha appunto un'esperienza ventennale questi sono diciamo i caporeparto anche il direttore della fotografia Antonio Grambona costumista Giovanna Napolitano persone che vanno appunto dai 40 ai 60 anni poi c'è stata tutta una troupe di giovanissimi nel reparto di regia abbiamo qui in sala la mia assistente di regia abbiamo avuto per tutto quello che riguardava il reparto di scenografia di Lino Fiorito che era un altro dei storici pilastri di Teatri Uniti una generazione intera probabilmente a cavallo tra il 1989 e il 99 quindi di giovanissimi che avevano fame la stessa fame magari che ha accompagnato gli artisti di Teatri Uniti a fare un'altra volta un'opera prima dopo quelle di Martone e Sorrentino questi giovani in una città come Napoli che possiamo definire un po' ai margini alla periferia dell'impero del cinema in un certo senso che è sempre Roma aveva una fame di dimostrare artisticamente il proprio valore io chiaramente faccio parte essendo del 91 facevo parte del gruppo giovane del film e credo che sia stato un incontro molto positivo perché diciamo le vecchie generazioni chiamiamole così nate a cavallo tra gli anni 50 e 60 avevano molto da insegnare ma credo abbiano anche imparato molto da questa energia positiva che c'è oggi a Napoli che si respira non solo nel mio film ma credo in tutti i film di questa nuova ondata di film che stanno facendo negli ultimi anni nella città non so se vuoi aggiungere tu qualcosa Andrea prego sì rialzo viene naturale viene naturale anche a me continuamente ma diciamo anche anche la storia del film è attraversata da un un'attenzione alle generazioni appunto i due personaggi principali vengono tratteggiati anche nella loro infanzia c'è diciamo un rapporto misterioso tra le età dei due protagonisti quindi forse diciamo questo questo tema passa dalle collaborazioni dagli incontri diciamo appunto artistici anche alle tematiche insomma e credo che sia fondamentale perché poi l'incontro tra generazioni si ricollega al tema principale del film è quello della memoria cioè se rinunciamo al dialogo inter generazionale perdiamo pezzi di memoria perdiamo la possibilità di incontro e tutto questo è molto molto concreto ecco per esempio voglio dire il rapporto sia sul set che quando l'abbiamo potuto condividere a teatro con Renato Carpentieri è un incontro con un attore di una generazione diversa dalla mia ed è stato nel corso del tempo un un incontro fertile questa è una cosa importante da mantenere essere guidati dalla sensibilità di di Marco sul set fa parte di questo desiderio appunto anche di memoria direi legato alle generazioni con cui si ha a che fare certo ci sono altre domande sì no allora io ne ho un'ultima poi ovviamente dobbiamo andare in chiuso no no era allora Federico Bernocchi giustamente noi ci alterniamo al tavolo e ci facciamo anche dei segnali convenuti perché ovviamente dobbiamo gestire per cui no 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 avrei mai censurato nessuna domanda allora no vorrei ecco fare una domanda per per chiudere ma proprio collegandomi sempre alla questione delle generazioni Marco tu hai detto appunto che fai parte giustamente dell'altra parte no quelli nati nel 90 e ho letto non so se è corretto che quando comunque hai concepito il film hai iniziato a scrivere il film ti trovavi all'estero ecco e quindi mi è venuto spontaneo pensare anche il tu un viaggio della memoria e cosa hai riscoperto per quanto giovane per quanto poi la memoria lo sappiamo non ha a che fare la sensibilità della memoria con l'età anagrafica non una questione proprio di come insegna Cesare Pavese tutto sommato di sensibilità individuale e quindi cosa hai riscoperto della tua Napoli che cosa hai rivissuto oppure cosa non hai riconosciuto sicuramente è corretto quello che dici la storia del film è nata nel 2012 all'epoca dovevo ancora fare 21 anni e mi trovavo a Parigi dove ho vissuto per 4 anni nel primo periodo senza mai tornare in città a Napoli non essendo me ne è mai andato io per troppo tempo la mia prima esperienza fuori e chiaramente mi capitava un po' per gioco un po' per necessità di ricreare questa città dalla quale mancavo da mesi quasi da anni di ricrearla nella mia mente anche quando mi trovavo a camminare per le strade o il lungo senno di Parigi che niente avevano a che fare con Napoli e mi capitava di ritrovarla anche di notte insomma sognando rivedendo questa Napoli che era sempre deserta notturna e crepuscolare quindi agli antipodi della Napoli che conosciamo nella quale sono cresciuto che è una Napoli molto più colorata viva e solare e in questa Napoli inedita che avevo ricreato nel subconscio diciamo nella mia memoria nella mia immaginazione ho iniziato a un certo punto a vivere a elaborare questa storia diciamo quasi fantasmatica di questa Napoli spettrale a un certo punto sovrapponendosi alla vera Napoli quando io poi sono tornato tempo dopo a Napoli in un periodo appunto di stacco tra Napoli e Parigi per gioco ho ricominciato a vedere anche la Napoli con gli occhi chiusi rientrando proprio nel mio palazzo nella mia casa all'inizio non volevo vederla immediatamente per non avere un impatto diverso rispetto a quello che all'immagine che mi ero creato e ho iniziato proprio come un cieco a toccare le cose di casa mia ricordandomi nel buio della mente dove erano le cose era rimasto tutto allo stesso posto in qualche modo c'erano delle piccole cose come succede spesso nella memoria che erano cambiate in modo inaspettato e da questo principio qua proprio in quel settembre 2012 io rividi Angelo con cui avevo sempre uno scambio epistolare da Parigi e gli accennai alla storia che era all'inizio un 3-4 righe che avevo abbozzato su un'agenda dove c'era scritto un cieco torna a Napoli e non la può più vedere e da quella cosa all'angelo evidentemente fu colpito da queste 3 righe mi disse elabora questa cosa che nel corso del tempo dei miei anni successivi a Parigi è diventata poi nel 2015-2016 una sceneggiatura il motivo poi per cui io sono tornato appunto dalla Francia era di iniziare la lavorazione sul film dal 2016 poi praticamente che è durata a lungo fino all'appunto al 2020 era tutto previsto per girarlo in un periodo ideale che era marzo 2020 una saggia scelta che chiaramente ci siamo rimangiati tempo dopo bene grazie siete stati veramente è stato molto interessante parlare con voi grazie per questo film bellissimo che lo ricordiamo è Santa Lucia presentato nel nostro fuori concorso e che diciamo anche questo uscirà molto probabilmente a partire da febbraio 2022 ovviamente quindi grazie ancora e a presto ci rivediamo al cinema grazie a tutti ok direi che ci siamo possiamo cominciare grazie a tutti per essere qui siamo felicissimi di questa conferenza stampa che conclude le conferenze stampa di quest'oggi per seconda giornata trentanovesima edizione del Torino Film Festival il film è ovviamente una squadra ci sono milioni di motivi per gioire visto che è l'esordio di Domenico Procacci che è al tavolo e come potete vedere al tab grazie bravi e come potete vedere al tavolo Torino Zugarelli Adriano Panatta Corrado Barazzutti Paolo Bertolucci e Nicola Pietrangeli mi sono praticamente emozionato solo dire i nomi e mi gioco l'aneddoto con cui insomma sono particolarmente legato a questo film alla storia di questo film per spiegarvi l'importanza visto che in altre sale in questo momento vi è fatto Get Back che racconta la storia dei Beatles noi praticamente abbiamo questa squadra e l'importanza di questa squadra è tale per il nostro DNA di italiani che il mio amico Nico fraterno quando era piccolo aveva un amico immaginario e la madre doveva apparecchiare per l'amico immaginario che era Corrado Barazzutti e tutte le sere mangiava con il suo amico immaginario io partirei da da domenico per raccontare questa magnifica storia e come una squadra è diventato un film una bellissima storia di cinema grazie prego buongiorno a tutti allora non è un film sarà una docu-serie e qui portiamo a Torino alcune scene tratte da puntate diverse quindi non è la prima come spesso ormai si fa nei festival si presentano le serie lo si fa mostrando una puntata o due puntate in questo caso no siamo ancora in una fase di lavorazione c'è qui Giorgio Franchini che è il montatore con lui e con gli sceneggiatori insieme a me Sando Veronesi e Lucio Biancatelli che sono anche loro qui insomma stiamo ancora lavorando con l'idea se non sbaglio se Roberto Pisoni non mi non mi corregge di andare in onda su Sky verso maggio questa è un po' l'idea quindi insomma è veramente un work in progress qui abbiamo scelto delle scene anche perché contemporaneamente si sta giocando la Coppa Davis qui ci sembrava insomma bello raccontare la vittoria in Cile ma non è una una serie sulla Davis del 76 sulla vittoria in Cile anche se quello è un capitolo importantissimo dopo il Cile c'è stata una finale l'anno dopo a Sydney persa per pochi punti e dopo due anni c'è stata un'altra finale a San Francisco e l'anno dopo un'altra a Praga arrivare quattro volte in finale in cinque anni significa appunto che non si tratta di un espload si tratta di una squadra che evidentemente tutti gli anni a parte l'episodio del 78 tutti gli anni è la squadra da battere e quindi in quegli anni possiamo dire che questa che vedete a questo tavolo è stata la squadra più forte del mondo e io pensavo fosse bello raccontare non soltanto quella vittoria ma tutte queste finali e anche quello che è successo intorno a quegli episodi raccontando dei personaggi che sono anche da puntista cinematografico per me molto interessanti e che è una cosa che ho un po' scoperto andando avanti nella lavorazione ora non la voglio far lunga però parlando con alcuni dei giornalisti insomma è partito quasi un gioco a a riconoscere degli archetipi dei personaggi archetipi del cinema italiano nei nei giocatori nella squadra che insomma è un gioco abbastanza divertente dove per me in qualche modo Adriano e Gasman Paolo e Tognazzi Tonino e Manfredi e aspe e io vedo in Corrado il Santa Flores di c'eravamo tant'amati ecco Nicola potrebbe essere un po' Adolfo Celi insomma un personaggio Aldo Fabrizi mi dice un po' precedente insomma è un gioco che si può fare ma si fa non soltanto per giocare ma anche perché veramente hanno coperto dei ruoli è un documentario che non è un vero documentario un documentario in cui appunto anche molto giocando di montaggio abbiamo un po' costruito un po' gli episodi da loro raccontati in maniera più cinematografica possibile allora effettivamente io mi sono dimenticato dall'emozione di citare chi c'è presente all'irà del tavolo Sandro Veronesi che appunto insieme a Lucio Biancatelli a Domenico Procacci hanno scritto la docu-serie Giorgio Franchini al montaggio e Roberto Bisoni per Sky lascio a questo punto subito la parola alle domande per la stampa se qualcuno si vuole prenotare per delle domande o se no altrimenti lascerei invece la parola se volete se preferite anche ai protagonisti oppure facciamo rispondere va bene allora se non ci sono se non ci sono domande io invece chiederei conciendo magari appunto da Adriano Panatta come avete vissuto voi il racconto della lavorazione di una squadra è acceso? sì come l'abbiamo vissuta? bene ci siamo divertiti ci siamo divertiti abbiamo fatto cose ancora molto più faticose di questa cosa qui con Domenico perché c'era un'atmosfera simpatica sì dica molto bene la ringrazio per cui è stato come dire io credo almeno da parte mia ma credo anche da parte di miei compagni che siamo riusciti a raccontare un periodo della nostra vita in maniera un po' disincantata in maniera in maniera allegra in maniera senza quelle cose che io odio profondamente ai nostri tempi perché quando c'eravamo noi no quando c'eravamo noi lo vedrete era era una storia diversa da quella che vedete oggi in televisione nel tennis moderno c'era un pur nella diversità dei caratteri una grande amicizia una grande unione con tanti aneddoti devo dire che io poi che non mi ricordo mai niente mi sono tornato dalla memoria e che ho rivissuto rivissuto con anche con un attimo di tenerezza devo dire no ormai siamo tutti quanti grandi loro sono molto più anziani di me però poi si vede anche insomma fisicamente sono un po' alla fine insomma praticamente e invece io che mi sento ancora giovane forte in qualche cosa qua che devo fare non dimmi cosa devo fare ecco no dicevo che soprattutto mi sono divertito mi sono divertito e credo che lui possa fare anche due docu-serie quello che vedrete e quello che non vedrete nei fuori onda che sono in certi momenti esilaranti penso che Domenico stia pensando io l'ho minacciato di morte ma se lui mette in onda anche qualche fuori onda forse questa atmosfera così di lì no ma io scherzo però devo dire che è stato un periodo meraviglioso un periodo meraviglioso che abbiamo condiviso insieme nella grande gioia di di quell'anno ma anche un percorso che abbiamo fatto noi quattro insieme poi ci siamo incontrati con Nicola che è stato il nostro capitano forse irripetibile perché per tanti anni siamo riusciti ad arrivare sempre in fondo siamo stati anche sfortunati perché purtroppo non abbiamo mai giocato una finale in Italia quello sarebbe stato per noi importante al di là che probabilmente ne avremmo vinte più di una però forse la soddisfazione di poter vincere una Coppa Davis in Italia non ce l'abbiamo mai avuta e l'unica Coppa Davis che abbiamo vinto siamo stati accolti come dei reglietti come delle persone che non erano ben gradite e devo ringraziare Domenico che fino dopo 45 anni forse ci ci rende onore a quello che abbiamo fatto pur non avendo io come dire andava bene anche prima non è che ci tenivo particolarmente però Domenico ha fatto una cosa secondo me credo irripetibile rimarrà insomma rimarrà perché come l'ha raccontata lui nessuno l'ha mai raccontata andava bene anche prima era molto bello Caterina Taricano che gira invece le domande che arrivano dalla stampa che ci segue da casa prego esattamente allora abbiamo due domande la prima la fa Stefano Semeraro della stampa chiede se i quattro moschettieri di allora si riconoscono nella squadra Davis di oggi e la seconda la fa Paolo Rossi di Repubblica e vorrebbe chiedere come nasce l'idea e chiedere soprattutto a Domenico Procacci se gioca a tennis e quale dei moschettieri è stato il più birichino interessante questa cosa che tu giochi a tennis determinante proprio nella storia come giochi a tennis uso questo così lo tolgo anche a lui allora andiamo dalla seconda domanda prima è quella del giorno cioè come gioco a te una delle cose che ho imparato durante questo lavoro è che fare un documentario anche una docu-serie in sei puntate ma anche se diventassero otto o se fossero più stagioni ecco tutto questo non migliora il proprio tennis di nulla di nulla non ho trovato alcun miglioramento in questo quindi gioco giocavo da ragazzo ho smesso tanti anni ho ripreso adesso giocavo abbastanza male da ragazzo gioco ancora peggio da ora quindi diciamo il mio tennis non è e andando avanti giocherò ancora peggio e poi invece c'era una domanda su come è nata l'idea l'idea è nata un po' perché ritenevo che la vicenda anche la allora io ho un grande interesse per gli anni 70 penso siano degli anni molto importanti della nostra storia e nel nostro paese insomma siano stati degli anni anche terribili ma molto interessanti da raccontare mi è successo da produttore di farlo con alcuni dei film che ho prodotto e ho parallelamente una passione per il tennis pur non essendo un buon giocatore ma qui ho cercato di coniugare un po' questa passione con il mio interesse al racconto questa è una storia una storia sportiva una storia molto bella che non riguarda solo un anno ma che riguarda quegli anni come dicevo prima e che copre andando a raccontare anche le loro vicende personali al di là della Davis praticamente tutto il decennio degli anni degli anni 70 mi sembrava interessante raccontare questa storia e l'ho conosciuta studiandola e mi è capitato di conoscere poi i giocatori che vedete a questo tavolo il primo che ho conosciuto è Adriano perché abbiamo degli amici in comune Giovanni Veronesi e Sandro che è qui e conoscendo loro ho visto anche dei personaggi molto belli da raccontare e quindi quando hai una storia e hai dei personaggi belli da raccontare l'unica cosa da fare è provarci e quindi siamo partiti così Adriano prima ha detto che questa storia in questo modo non è mai stata raccontata dicendo che l'ho raccontata io in realtà la grande differenza che io vedo tra questo lavoro e altri lavori se vogliamo più canonici che sono stati fatti nel tempo e anche di recente su questa stessa storia è che in questo caso non c'è una persona che racconta quello che è accaduto ma sono loro stessi che lo raccontano e loro stessi loro cinque lo raccontano seguendo i loro ricordi che non sempre sono proprio precisissimi diciamo non sempre e anche quello che pensavano allora e che continuano per lo più a pensare adesso quindi con delle differenze ma anche questo fa parte della è una caratteristica di questo lavoro ci sono domande che vengono dalla sala c'è già ho notato qualcuno prego Andrea Giordano per Tiscali un'altra domanda se posso a tutti voi voi siete stati anche degli allenatori dei capitani non giocatori penso a Corrado che ha vinto quattro Fed Cup ma anche Adriano che è stato grandissimo come allenatore che cosa avete imparato da giocatori dal tennis e cosa avete cercato di trasmettere poi a quelli che sono arrivati dopo grazie anche Paolo è stato un grande capitano dopo di me ma io ognuno ha il proprio modo di fare il capitano io quando facevo il capitano mi immedesimavo nel match per cui cercavo di far giocare il giocatore logicamente secondo i suoi anche i suoi limiti diciamo le sue caratteristiche tecniche in una certa maniera affinché potesse mettere in difficoltà l'avversario questo è un metodo è un metodo diciamo più tecnico più tecnico più tecnico poi ci sono anche altri metodi che sono un po' più diciamo psicologici di dare un supporto psicologico al giocatore ecco io preferivo soprattutto dirgli cosa bisognava fare in quel momento in quella fase del match io credo che Corrado è troppo fresco non può dirlo io invece che ho avuto la squadra prima a questo punto lo posso dire senza che nessuno si offenda invidio indubbiamente un pochino anche Volandri perché è arrivato quest'anno e si è trovato in mano una squadra giovane una squadra molto forte con un grande potenziale quindi l'augurio che faccio a questa squadra a questi ragazzi è quella di poter nell'arco di qualche anno riuscire a conquistare questa questa coppa che io fatico sinceramente a chiamarla Coppa Davis questa è un'altra manifestazione la Coppa Davis è morta secondo me un paio d'anni fa quando ha cambiato completamente formula questa è un'altra competizione molto importante a livello mondiale che però niente a che vedere con la vecchia Coppa Davis e secondo me questa squadra sarebbe ancora più forte o almeno avrebbe più potenzialità ancora se si giocasse con la vecchia formula a questo proposito recuperiamo la domanda di Stefano Semeraro della stampa se i quattro moschettieri di allora si riconoscono nella squadra Davis di oggi in che senso riconosce arriva dal web diciamo non posso azzardarmi in interpretazioni credo sicuramente per essere una squadra competitiva lo sono perché questi quattro giocatori compreso il giovane rappresentano il massimo che c'è stato negli ultimi 45 anni io non so riconoscermi sicuramente in qualcuno di loro non so dirlo ecco dico solo che è una grande squadra che sicuramente se sentirà nel cuore la voglia di vincere la Coppa Davis ha un passo da farlo ha tutte le credenziali in regola altre domande invece dalla sala ci sono prego grazie Gaia Piccardi Corriere della Sera Nicola volevo chiederti perché secondo te un fatto avvenuto 45 anni fa è ancora così vivo nella memoria collettiva io ieri ho visto la presentazione del docufil mi sono divertito ho pianto dal ridere mi sono commossa perché siete ancora così vivi e presenti nella storia dell'Italia così tanto così tanto tempo dopo e a Paolo invece vorrei chiedere se conserva ancora la maglietta rossa della finale di Santiago Adriano tenderei a descluderlo grazie allora vivi una parola come dice Adriano è già una bella parola ma perché secondo me è una cosa che interessa è una cosa che non è mai stata rifatta e siccome ci sono talmente tante versioni che ne hanno scritto di tutti i colori in tutti i modi sotto sopra e quindi a questo punto questo lavoro che ha fatto Domenico suscita sicuramente molta curiosità e io credo che sia una importantissima come posso dire voglia di conoscere ma che ci racconta questo quali sono le vere verità perché io vi assicuro che qui di versioni a parte noi cinque ce ne saranno anche altri due o tre molto probabilmente uno molto diverso dall'altra chi più chi meno perché dopo tanti anni tutti noi forse magari qualche cosuccia antipatica non ce la scordiamo e qualcuno magari fa anche finta di non ricordarselo però ripeto questa è una storia bellissima è inutile dire irripetibile perché se dopo 45 anni ancora non c'è mai riuscito da nessuno evidentemente non è stato così facile e poi c'è stato tutto sarebbe troppo lungo da spiegare la parte politica e la parte sportiva però diciamo che non è stato male e come diceva Adriano noi siamo stati anzi non dico accolti ma anzi proprio non accolti a ritorno e sembravano dei ladri che avessero rubato le caramelle a qualche bambino esatto c'era poi la parte della maglietta prego io ho regalato perché tanto non ti ricordi nulla io invece la maglietta rossa insieme a tutto il resto io ho lasciato la valigia completamente ai raccattapalle e agli uomini dello spogliatoio lì a Santiago che ci avevano accolto in maniera fantastica e quindi ho regalato tutto quanto quindi sono arrivato siamo arrivati poi a Rio per giocare contro a calcetto perché questo era in spiaggia al mattino contro dei ragazzi brasiliani che trovavamo lì mi sono dovuto comprare il costume da bagno perché non avevo niente continuiamo con le domande si era già prenotato prego buongiorno sono Ubaldo Scanagatta no veramente non lo sapevo quello che rimane quello che rimane di Ubaldo Scanagatta ubitennis.com ho giocato contro tre di questi quattro giocatori ci ho quasi sempre perso però dico però quasi e niente volevo chiedere intanto vedo curiosamente che Panatta e Bertolucci stanno accanto da una parte e Barazzuti e Zuccarelli stanno accanto da quell'altra non è una sorpresa non è una sorpresa volevo capire se le cose sono cambiate in questi 45 anni di e poi volevo chiedervi anche non avete un pochino il dispiacere di aver visto che dopo di voi c'è stato 45 anni di buio praticamente nel tennis italiano e come lo spiegate è stata la federazione che ha investito male è stato cosa è successo ultima domanda Nicola Pietrangi è stato un grande capitano senza di lui non si andava a Santiago però un anno dopo già c'era parecchio come dire contrasti fra i giocatori e Pietrangeli chi è che ci racconta che cosa è successo basta che guardi dopo un film e vedrai tutto cioè o no se te lo diciamo adesso dopo tu non lo guardi quindi è meglio che mi hanno detto che non era vero però adesso lo dice Ubas ma non che ci fosse la guerra per carità però c'era c'era una c'era una cosa in mezzo ma poi ripeto non è che si sono sparati però guarda combinazione due stanno di qua due stanno di qua però però dopo abbiamo capito tutti insieme che era molto meglio stare tutti insieme e di fatti lì che è nata la vera squadra perché in partenza sembrava un po' così così dopo dopo è stato tipo proprio sai uno per uno tutti per uno come ti pare ed è quello che ha fatto sì che siamo arrivati dove siamo arrivati e anche l'anno dopo c'è mancato poco se quel mascalzone sul 5-4 al quinto 30 pari non mi fa un doppio fallo hai rotto l'aracchista hai rotto lasciamo allora dopo dicevo a Corrado stai senti questa quando Corrado gli ho detto dopo che aveva perso dico pensa che bello sarebbe stato te per giocare l'incontro decisivo della Coppa ma hai detto sì ma tu c'hai sempre voglia di scherzare non voglio scherzare niente pensa che tra parenti cos'era finito 14 pari il primo set un set e se la giocava bene con Roach sarebbe stato molto divertente bella squadra altre domande dalla sala prego buongiorno Federico Pontigia rivista del cinematografo il film fa vedere bene come almeno in quel frangente il condizionamento più forte fu quello della politica se oggi pensate al tennis a contemporaneo a parte la Davis a vostro avviso il condizionamento più gravoso qual è? grazie grazie ecco Rado sei l'ultimo che ha partecipato non capisco lo dicevo in che senso il condizionamento il condizionamento politico ma non c'è nessun tipo di condizionamento in questo momento stanno facendo una cosa che non è più la Coppa Davis se giocano in sede unica due su tre tutto in un giorno sembra la Coppa Croce che Ubaldo conosce bene perché l'ha giocata anche lui come l'ho giocata io che è? la Coppa Croce si giocava in 5-7 bravo Nicola per cui neanche la Coppa Facchinetti forse nessuno sa cosa è la Coppa Facchinetti che ha giocato sempre Ubaldo ma l'ho giocata anch'io io l'ho giocata tutte le coppe che ho fatto la gavetta e non hanno più condizionamento cioè è un discorso nuovo infatti quando ho guardato in televisione questa Coppa Davis ho visto World Cup of Tennis ecco io trovo che sia anche un un bel nome levassero Davis lasciano World Cup Tennis of Tennis non c'è niente di male mi fa piacere che ho letto proprio l'ho letto stamattina Nicola pensa stamattina che anche tu hai detto che il signor White si chiama White non è quello che ha inventato eh? di nome Wright 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 ok Davis di cognome quello lo sapevo pure io cretino ok fa sempre il fenomeno lui uomo sky per cui cioè ma vi rendete conto con chi avevo da fare io è canonico è canonico anche questo e che stava di? non lo ricordi più no non sono condizionati non sono condizionati per niente adesso per esempio ieri sera proprio finisco ieri sera hanno giocato Italia contro Colombia no? ecco ecco pensa se nella vecchia Coppa Davis avessero giocato a Bogotà ecco cioè la Coppa Davis era bella anche per quello cioè forse a Bogotà un match del genere sarebbe stato vissuto adesso non so ci sono cittadini colombiani qui a Torino può darsi pure insomma però è quello che manca no? noi abbiamo giocato io da capitano abbiamo giocato a Calcutta ma anche delle esperienze bellissime di vita capito siamo andati a giocare in India siamo stati lì 20 giorni siamo stati in Australia con Nicola poi ci siamo poi siamo andati in America era una cosa un po' diversa un po' diversa adesso adesso io sto in albergo dove si sta l'Ungheria e e quelli che giocavano ieri sera chi erano? a Croazia chi erano quelli? a Croazia a Croazia ecco adesso dico che gliene frega a Torino di vedere Croazia contro l'Ungheria no? ma è una verità ma perché non bisogna dire la verità? no? infatti ci stavano sei persone e invece era bello andare a giocare in tutti i paesi come era bello giocare al fuoritalico contro delle grandissime squadre in Italia questo a me manca della Coppa Davis questa roba qua capito? che era bello andare a giocare dappertutto e tutti avevano la possibilità di giocare e avere un grande palcoscenico capito? l'Ungheria noi abbiamo giocato contro l'Ungheria abbiamo pure perso per colpa mia me lo ricordo perfettamente ma è stata una trasferta importante ecco posso permettermi di dire una cosa? sì una piccola cosa non mi hai parlato ti sei preso sto microfono no ma forse forse un condizionamento il tennis ce l'ha in questo momento in realtà la Coppa Davis ne è l'esempio lampante è il fatto economico la Coppa Davis è diventata così con questa formula proprio perché è stata comprata da una da una società la Cosmos e che l'ha fatta diventare sì che l'ha fatta diventare praticamente un un campionato del mondo di calcio cioè la stessa esatta formula del campionato del mondo di calcio e questo ha portato naturalmente a una Coppa Davis completamente diversa secondo me non è più la stessa come ha detto Adriano non ha più niente a che vedere con la vecchia formula diciamo che il denaro in questo momento anche anche probabilmente voglio dire la spinta delle televisioni che vogliono uno spettacolo molto più breve che devono poter organizzare voglio dire i loro programmi ma insomma questo sta condizionando un pochino un pochino il tennis e la Coppa Davis è la prima diciamo competizione forse l'unica competizione che ne ha sofferto in modo particolare è stata praticamente smantellata è fatta diventare se dovessimo fare un esempio è come se uno slam venisse giocato due su tre in una settimana quindi diventerebbe un 250.000 per dire la Coppa Davis è diventato un piccolo torneo in questo momento purtroppo dico purtroppo anche con voglio dire un voto favorevole a smanterlarla della nostra federazione poi dico non dico un'altra cosa a me mi sembra che adesso per i prossimi tre anni Ubaldo tu mi puoi confortare nei prossimi tre anni si giocano i finali a Madrid eh Abu Dhabi come campionato di calcio insomma ho capito dimmi tu uno va a Abu Dhabi a giocare a tennis allora altre domande ci sono domande credo che credo che Pichet sia molto contento di questa conferma non trovate no 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 ma parlavo con i giornalisti diciamo del tennis sanno che è Pichet quindi credo che lui sia molto contento di questo domandategli di giocare una partita di calcio alle due del mattino poi vediamo che dice c'è un'altra domanda forse si se può allontanarsi dalla cassa per cortesia grazie pronto pronto no mi piacerebbe capire da da Domenico Procacci se tutte queste cose che riguardano l'attualità potrebbero tradursi domani in un confronto fra gli anni 70 oggi se è una cosa che lo ispira o proprio a lui è innamorato degli anni 70 e resta lì ecco perché avrà appreso sentendo tutte queste cose Abu Dhabi i soldi e tutte queste storie qua chi lo sa che non sarebbe interessante poi con una squadra di Coppa Davis competitiva come adesso all'Italia che non ha avuto per tutti questi anni sì per me è meno interessante raccontare un presente che comunque è in divenire ma non perché sia meno interessante quello che accade ma è chiaramente tutto diverso è bello che l'Italia possa di nuovo sperare di vincere la Coppa Davis ma è vero anche che questa squadra qui ha vinto quella Coppa Davis e se anche oggi l'Italia vincesse è una Coppa Davis perlomeno diversa poi si chiama ancora nello stesso modo ma sappiamo insomma è un'altra cosa ora tutti loro ma non solo loro ci sono stati molti altri giocatori che sono intervenuti criticando questa formula è vero forse si potrebbe potrebbe cambiare nome e diventare qualcos'altro però insomma tutto questo per me è interessante un po' da spettatore ma non lavorerei su un progetto sulle differenze tra la Coppa Davis di allora e la Coppa Davis di oggi in quello che abbiamo raccontato non so se questo può essere interessante per voi però voi vedete appunto dei frammenti ma ecco magari può essere interessante vi dico qualcosa che non c'è che non avete visto qui e che un giorno spero possiate vedere ed è innanzitutto le altre finali le altre finali magari quella di San Francisco può essere stata meno interessante un po' più netta arrivavate anche dopo la perdita di Bitti Bergamo c'erano tanti elementi ma quella di Praga è un film a sé ma anche Sydney sia dal punto di vista sportivo sia per quello che stava succedendo all'interno della squadra ci sono dei capitoli importanti raccontiamo anche dei capitoli importanti della vita sportiva dei giocatori c'è un episodio che possiamo quasi definire shakespeariano che è l'esonero di Nicola perché dopo che hai vinto la Coppa Davis un anno e l'anno dopo arrivi in finale tra l'altro perdendola appunto per pochi punti l'esonero è umano che Nicola l'abbia vissuto come un qualcosa di come un'ingiustizia e tuttora quando lui ne parla e anche questo non c'è in questi 75 minuti che avete visto ma ci sarà lo vive come un tradimento ma ognuno poi dei giocatori ha la sua lettura di quell'evento e anche di altre cose ci sono tanti episodi che a me fanno anche molto ridere che riguardano anche i rapporti fra di loro ma anche episodi che sono accaduti negli anni Giorgio mi può ricordare ci sono delle partite che fanno storia a sé tu parlavi del momento in cui Corrado e Tonino hanno giocato il doppio al posto vostro a Roma contro l'Inghilterra dell'acqua non va bene c'è un dottore in sala io sto morendo per cui forse muoio adesso qua pensa che scoop no? Cascia che carina Cascia cali di zucchero Cascia Smoniak tua moglie allora se si capisce perché però insomma è un mistero se non ci sono altre domande c'è una domanda c'è una domanda ancora? Pronto? Sì Andrea Pavan tutto sport si senta? Scusate dopo i 75 minuti di ieri domande ne aveva i 3.000 mi limito a questo sapere anche telegraficamente e sinceramente da tutti i protagonisti se con il falco oggi credono ritengono che avrebbero vinto di più sia in Davis e non solo perché alcune partite ce le ricordiamo tutte o se invece ritenete che alla fine nel tennis 50 anni fa come oggi Vinca è sempre più bravo alla fine e in particolare da Zugarelli se ha poi per caso più rivisto il console italiano di Barcellona diciamo che a Praga sicuramente avremmo avuto qualche vantaggio e qualche chance in più di vittoria quindi il falco credo che sia una delle cose più importanti che siano state immesse nel tennis negli ultimi anni anzi come in tante altre situazioni il tennis da questo punto di vista si è dimostrato spesso avanti ad altri sport tanto è vero che poi questo falco tra virgolette è stato copiato da prima dalla palla a volo e poi anche adesso dal calcio insomma da altre situazioni da altri sport per quanto riguarda invece il console non so se è diventato ambasciatore però sentiamo Zuccarelli che lui è molto amico per cui potrebbe dividere qualcosa forse il console non aveva capito la situazione però sì sicuramente io ho fatto un'uscita molto forte però no va bene no non era forte no allora è stato entrato il console dicendo eh ma è uno scandalo uno scandalo è stato accolto da sei o sette vaffa in un momento dove c'era molta molta tensione molto ecco beh è stato anche quello sbagliato il tempo ma non è successo niente da che è successo beh che è successo era una scazzottata in mezzo al pubblico una stupidaggia lui Adriano ha dato un cazzotto a uno e diceva ma che fai sono italiano ha sbagliato l'unico cazzotto no ma il console perché è entrato veramente sbagliando tempo oh ma questo è uno scandalo ma va ma va quel paese e su questo vi ringraziamo credo che sia giunto ormai il momento come si dice nei migliori salotti di congedare di liberare i nostri ospiti onde evitare altri malori grazie grazie a tutti una squadra di Domenico Procacci fuori concorsa grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie grazie a tutti Grazie a tutti